Buongiorno a tutti, io sono Paolo Tonini, sono l'incaricato di aprire questo importante seminario. Ringrazio le attività dell'Istituto Italiano di Cultura sotto la direzione della dottoressa Silvia Vallini che è collegata con noi stamattina, questo pomeriggio, e che sarà la moderatrice della riunione di oggi. Per noi è un motivo di orgoglio avere questo seminario perché i rapporti artistiche e culturali tra l'Italia e il Perù, tra la Liguria specificamente e il Perù, tra Genova e Lima, sono molto profonde e stanno diventando più forti. Come voi sapete è stato firmato un accordo di gemellaggio tra la città di Lima, la città metropolitana di Lima, il municipio metropolitano di Lima e la città di Genova, un gemellaggio che rinforzerà qualsiasi tipo di accordo, di attività, di natura culturale artistica o architettonica tra i nostri paesi e specificamente tra Genova e Lima. Io vorrei ringraziare anche la presenza di Anna Viola Sborgi, figlia del maestro Franco Sborgi, che ci darà qualche parola, e le professorese Caterina Olcese e Lili Pio. Si tratta effettivamente di un evento di grande importanza e un progetto di ricerca che è stato avviato grazie all'opera dell'istituto, iniziando da alcuni contatti di natura virtuale. Noi speriamo che questo tipo di attività possano rafforzare certamente un partenariato di natura culturale architettonica che già è molto profondo. In particolare si tratta dell'arte cimiteriale, della parte anche delle sculture. Lima ha un cimitero bellissimo, imponente, il presbitero maestro, il quale tuttavia ha bisogno in alcune parti di attività urgenti di restauro. Penso in particolare alla tomba di Antonio Raimondi, che è stato uno dei più grandi italiani che hanno vissuto e contribuito allo sviluppo del Perù, che adesso con l'associazione Antonio Raimondi si sta pensando di un attimino rimettere. Perché? Perché il cimitero, per quanto sia stupendo, per quanto sia culturalmente l'epicentro della scultura museale in Perù, negli ultimi anni, ha subito un processo di relativo, ovviamente abbandono, che grazie a varie attività anche italiane e soprattutto all'amministrazione della città e a Prolima, che è la municipalizzata, l'azienda che si occupa del recupero del patrimonio artistico e architettonico, adesso sta tentando un pochino di riemergere. Quindi un collegamento che non è solamente artistico astratto, ma concreto di attività fra, per esempio, esperti che si sono occupati del cimitero di Staglieno di Genova e il presbitero maestro potrebbe effettivamente inquadrarsi con profitto nell'ambito del gemellaggio di cui stiamo parlando e per cui ringrazio nuovamente la dottoressa Vallini che potrà naturalmente curare e approfondire questo tipo di attività. Mi dicevano infatti che per esempio Sborgi propose negli anni Ottanta il cimitero di Staglieno come affiliato all'associazione dei cimiteri significativi europei, che sarebbe Association of Significant Cemetery of Europe. Ovviamente non sappiamo se esiste un equivalente in America Latina, ma in ogni caso si tratta di un patrimonio culturale, storico e architettonico peruviano che ha fortissimi collegamenti con l'Italia, non solo per le persone che hanno trovato riposo all'interno, ma anche per gli artisti che vi hanno lavorato e che quindi merita senz'altro una forte attenzione da parte nostra. E quindi sono particolarmente contento, siamo tutti particolarmente contenti di questo primo seminario che potrà senz'altro essere un primo passo su un ponte che collega Italia e Perù anche in questo aspetto. Quindi io vi ringrazio, vi auguro buon lavoro e cedo la parola alla dottoressa Vallini. Grazie. Grazie dottor Tonini, salutiamo l'ambasciata d'Italia, ringraziamo per la presenza, l'incaricato d'affari, dottor Paolo Tonini, che oggi ha aperto i lavori e che ci ha anche tracciato una prospettiva molto interessante di interazione istituzionale, culturale, di collaborazione con le autorità locali per il recupero del patrimonio locale. Saluto le relatrici, le professoresse che ci presenteranno uno spaccato inquadrato in maniera complessiva nelle circostanze storico-artistico-sociali culturali dell'epoca, ma anche con approfondimenti già molto interessanti e significativi sugli artisti e sulle opere che poi andranno a costituire una piccola parte del progetto di ricerca che stiamo portando avanti. Però saluto con grande piacere soprattutto oggi Anna Viola Sborgi, che ha accettato di stare qui con noi in questo momento che è stato pensato specialmente per ricordare nel decennale della scomparsa esattamente dieci anni fa, il 31 ottobre del 2013, ci lasciò il professor Franco Sborgi, del quale anche io sono stata minimamente allieva perché ovviamente passare dall'Università di Genova e la storia dell'arte significava passare per quanto riguarda il famoso esame di storia dell'arte contemporanea dalla cattedra del professore. Quindi ho preparato qua ovviamente un rapidissimo, diciamo, una rapida presentazione della figura del grande studioso e professore, sottolineiamo perché comunque va sempre ricordata la sua vocazione alla didattica, all'insegnamento, mai sacrificato in relazione ad altri aspetti come per esempio la ricerca, le relazioni istituzionali o ecco altri tipi di aspetti che caratterizzano questo tipo di lavoro. Quindi Franco Sborgi nacque a Novi Ligure nel 44 e quindi ci lasciò veramente troppo presto, a 69 anni, in attività, ancora in attività all'Università di Genova. È uno dei primi docenti universitari di storia dell'arte contemporanea d'Italia, in particolare la cattedra di storia dell'arte contemporanea di Genova presente dal 1979 fu proprio la terza in Italia, quindi proiettando la città di Genova, diciamo, tra le università innovative, anche per la presenza proprio di, nella carriera di storia dell'arte, insegnamenti rari, ecco, come storia dell'arte contemporanea oppure approfitto anche per ricordare storia delle tecniche artistiche per esempio con il professor Franco Renzo Pesenti che approfittiamo qui per ricordare pure in quanto ci ha lasciato anche lui pochi giorni fa. Franco Sborgi quindi è fondatore degli studi sull'arte contemporanea a Genova e in Liguria, affrontati con originalità di metodo e ampio respiro e sempre con grande attenzione e sensibilità per il contesto storico sociale e con attenzione alla salda collocazione dell'oggetto dei suoi studi di volta in volta in una dimensione culturale internazionale. La pubblicazione di numerosi quanto pioneristici e impegnativi, saggi e volumi, articoli e contributi e la partecipazione a innumerevoli convegni nazionali e internazionali sui temi della scultura dell'otto e del novecento, in particolare quella funeraria, sono stati determinanti per la rivalutazione del cimitero di Staglieno, ottenendo con il suo fattivo contributo l'inserimento del comune di Genova tra i fondatori di Asce, come ha ricordato il dottor Tonini prima. Naturalmente Sborgi è molto altro, è stato curatore di mostre memorabili da quella del Teatro del Falcone nel 1981, quindi pochi anni dopo il suo insediamento nella cattedra genovese, su aspetti dell'informale Indiguria e quindi a quelle che negli anni novanta proiettano la città di Genova e il rinnovato Palazzo Ducale, appena restaurato all'epoca, come ricordiamo, in una dimensione di sicura centralità nella geografia espositiva degli anni ottanta e novanta, contribuendo quindi alla rinascita della città che si colloca proprio in quegli anni. Qui naturalmente interessa soprattutto citare i suoi studi sul cimitero di Stagliano. Sono circa una trentina o più di pubblicazioni tra le quali spiccano le definitive monografie sui grandi artisti protagonisti del complesso monumentale, dal realismo borghese di Sandro Varni al simbolismo di Guido Galletti e ben oltre. Il naturale, ecco, qui bisogna menzionare che il naturale prolungamento di questi studi portava dove? Portava proprio da questa parte del mondo, portava in America, in questo caso in America Latina ma non solo, perché anche nell'America settentrionale ci sono ampissime testimonianze di qualsiasi tipo di presenza di scultori e sculture ligure italiane. Quindi il campo in realtà è vastissimo di studi. Perché quindi? Perché dall'America Latina o dalle Americhe arrivavano le ricchezze che in vario modo alimentavano le committenze delle opere, come ci dirà anche oggi stesso, qualche cosetta ci anticiperà la dottoressa Olcese. Quindi tutto questo si faceva presenza attiva in America Latina, presenza di opere d'arte, presenza di palazzi, come il nostro palazzo dell'Istituto Italiano di Cultura che era appunto una scuola, una scuola fondata dalla comunità italiana che poi si è chiamata collegio, o meglio scuola, Antonio Raimondi, che è ancora esistente. Costruzione di interi quartieri popolati dalle comunità italiane, visti di importanti istituzioni commerciali, bancarie, imprese, famiglie, individui, tutti, tutto un collettivo sociale che contribuì a costruire nel tempo il tessuto delle società locali. Quindi è da qui che prende avvio la ricerca di Caterina Olcese e di Lillichio. Caterina Olcese anche lei allieva di Sborgi, assieme a tanti altri, tra cui approfitto anche qui per ricordare Gianni Franzoni, anche lui scomparso troppo presto, veramente troppo presto. Caterina Olcese si dedica da subito con grande passione a studiare il cimitero di Staglieno. L'anno scorso l'abbiamo invitata per parlarci di Staglieno il 28 ottobre, in occasione dell'enquentro dell'Hos Semeterios Monumentales Iberoamericanos, e da lì è nata la voglia di continuare, approfondire e ricercare altre vie, che ci porteranno alla costruzione, come anche il dottor Tonini ha prospettato, di altre iniziative e infine alla pubblicazione di un libro. Naturalmente oggi appunto l'occasione principale è, come abbiamo detto, il ricordo del professor Sborgi e quindi abbiamo fatto coincidere tutte queste convergenze. Come sta procedendo la ricerca delle studiose? Per quanto riguarda i monumenti del cimiterio presbitero maestro è stata fondante la consultazione del catalogo provvisorio del complesso, l'imegno, il riconoscimento o la conferma della paternità delle opere riferibili ad artisti liguri, genovesi o italiani e l'individuazione di modelli di riferimento, modelli importati di evidente suggestione. Per alcuni artisti genovesi, è il caso ad esempio di Giovanni Battista Cevasco, il catalogo delle opere prodotte per il cimitero di Lima o comunque inviati in Perù si configura particolarmente ricco e pressoché definito nella sua completezza. Ossia le nostre ricercatrici per alcuni artistici presenteranno un catalogo completo delle opere realizzate per il Perù, quindi questo è da sottolineare, straordinario. Al contempo si approfondisce la ricerca, soprattutto da parte di Caterina Olcese, sulla committenza e più in generale sugli emigrati, che è un tema che già ha localmente e anche in Italia un'ampia letteratura. sui emigrati, però non specificatamente forse sulle relazioni storico-artistiche, ecco, è sempre lì il tema con cui anch'io mi cimentai ormai quasi vent'anni fa, cercando di studiare le relazioni nella prima metà del Seicento, tutt'altro periodo, tra Genova e la Spagna. Bene, e quindi gli emigrati con fortuna genovesi e liguri che furono esponenti di rilievo dell'era del Guano, la cosiddetta era del Guano, seconda metà dell'Ottocento. Già oggi Caterina Olcese ci dirà qualcosa di nuovo, in merito, però magari non troppo, qualcosa, ma non troppo. Diciamo, diamo una prospettiva, ma forse è meglio non scendere in dettagli sino a passi successivi. D'altra parte si è avviata anche un'indagine da parte della professoressa Lillighi, ho tesa a individuare possibili informazioni sui carichi e quindi sul trasporto di marmi o altri oggetti d'arte delle navi in partenza da Genova. Una ricerca difficile, specialmente per gli anni 1850-80, ma sicuramente avrà prospettive. E anche qui aggiungo che anch'io mi ero cimentata, nello stesso tentativo, andando a Barcellona nell'archivio di una istituzione importante, che adesso non mi viene in mente quale sia, la Conta del Comercio. E quindi anch'io avevo iniziato a vedere questi cataloghi e in effetti c'erano un sacco di quadri, ma nessun genovese. Ecco, che stranissimo. Nessun genovese, quindi insomma, il territorio è amplissimo, probabilmente se non si restringe troppo il campo, almeno per quanto riguardava la ricerca sul 600, mentre per magari sull'800 è diverso. Mentre allora andavano sui vascelli, mi immagino che nell'800 le statue partano direttamente con gli emigranti, no? Cioè i transatlantici portavano anche le statue, oltre che gli emigranti e i passeggeri, magari di altro tipo, no? Benissimo. E infine chiudo dicendo che nel corso del lavoro è emersa la necessità di non concentrare l'attenzione, appunto, come dicevo, esclusivamente sulla scultura funeraria, ma di estenderla anche ad altri geni. In particolare alla produzione di carattere religioso e anche geograficamente andare fuori aiuto da Lima. Per esempio si pensi alle statue importate nel 1851 da Giuseppe Canevaro per la cattedrale di Arequipo. Chiudo ricordando ancora l'indispensabilità degli studi di Franco Sborgi come fondamento per gli studi che si vanno a sviluppare tra la Liguria e il Perù in tema di arte dell'800. Adesso ho il piacere di passare la parola alla figlia del professor Sborgi, Anna Viola Sborgi, che ancora ringrazio per aver accettato il nostro invito. Grazie mille. Prego, Anna. Grazie a voi. Buonasera in Perù e buonasera in Italia. Vi parlo dall'Irlanda e vi ringrazio molto, semplicemente da parte mia, da parte della mamma, che non può essere qua collegata in diretta, mia zia Giovanna Sborgi che invece è collegata in diretta. E ringrazio la dottoressa Vallini per questo splendido ritratto che ha tracciato, il dottor Tonini anche per aver rievocato questa nutrita serie di relazioni che è il suo sito tessuto che insomma sembra avere ancora molti spunti di apertura e dare il via a future collaborazioni. Sono molto contenta che questi progetti siano in corso e aprono nuove direzioni, quella per il Perù e per l'America Latina che in senso è più ampere, è una grande passione quando in realtà questa apertura di Genova va verso un tempo appunto più lontano ma allo stesso tempo vicino. E quindi sono molto contenta e sono molto interessata a sapere che cosa parlo in inglese, quindi I'm looking forward. Quindi grazie Lilli e Caterina per aver dato via questa iniziativa e i vostri contributi. Grazie infinite a dottoressa Sborgi. Davvero siamo felicissimi, siamo davvero contenti perché tutti abbiamo conosciuto il professore come appunto ricordavo anch'io che mi sono laureata con la professoressa Dufour però tutti diciamo siamo tutti passati dalla cattedra del professore quindi è patrimonio di tutti ed era veramente doveroso doveroso omaggiarlo e sono contenta che abbia potuto realizzarsi questo omaggio proprio oggi esattamente a dieci anni dalla scomparsa. Ricordo anche che Anna Viola si sta collegando da Cork in Irlanda quindi abbiamo tre fusi orari diversi uno italiano, uno irlandese e uno peruviano. Tra l'altro abbiamo anche ben 37 persone in linea penso tra peruviane e italiane eccole qua infatti che ringrazio, ringrazio il pubblico che numeroso sta assistendo a questo ricordo del professor Sborgi e a questo seminario sull'arte diciamo italo-americana della seconda metà dell'Ottocento. Bene, adesso davvero chiudo e passo la parola quindi a Caterina Olcese per la sua prima relazione. Caterina purtroppo non ho qua il titolo della tua conferenza lo puoi dire tu al pubblico? Sì? Sì. Lo leggo e poi condividiamo lo schermo tra pochissimo. Dalla Liguria al Perù e ritorno Architettura e opere d'arte come simboli di storia e di successo. Questo è il titolo. Grazie. Grazie. E poi te lo rivedrete come prima slide del PowerPoint. Bene. Scusa Caterina, solo un'altra cosa devo dire prima di iniziare al pubblico che non sapesse come seguire il canale dell'interpretazione in spagnolo dovrebbe andare nell'icona del mondo che si trova in basso a destra della schermata e selezionare il canale spagnolo e spagnolo. Ecco. Quindi adesso davvero chiudo. Grazie. E ti passo la parola a Caterina per la tua relazione. E siamo quasi nei tempi. Allora, cominciamo pure a condividere lo schermo che è la cosa che ci servirà subito tra pochissimo. Va bene? Sì. Siamo? Sì. Perfetto. Allora, però prima di cominciare io volevo soltanto fare due piccolissime premesse. La prima è ovviamente un ringraziamento a Silvia Vallini all'Istituto Italiano di Cultura di Lima perché è la seconda volta che mi ospitano e che mi coinvolgono ed è oggi particolarmente una giornata speciale. È stata una bellissima idea questa di far coincidere questa presentazione con questo anniversario perché già lo scorso anno quando ero stata invitata a parlare del cimitero di Staglieno occasione durante la quale poi mi ero un po' già spinta a cercare di mettere insieme diciamo il cimitero di Staglieno con il presbitero maestro a cercare le relazioni che sono forti e importanti. Dicevo già, lo scorso anno era stato ovviamente imprescindibile il ricordo di Franco Sborgi. Oggi è un anniversario importante e lo ricordiamo, lo avete ricordato molto bene e sono contentissima che sia presente Anna e sia presente la sua famiglia. Diciamo che la cosa importante che mi pare sia evidente ma lo ridico ancora è l'attualità di quanto Sborgi ci ha mostrato. La pista di ricerca che lui ha aperto sono ancora dopo dieci anni dalla sua scomparsa del tutto attuali. Siamo qui a iniziare un lavoro in parte abbiamo iniziato a diciamo a porre le basi ma insomma a iniziare un lavoro e senza le sue direttive devo dire oggi non ci saremo questo seminario questo progetto di ricerca non starebbe in piedi. Quindi questo la dice lunga sulla capacità pionieristica che Sborgi ha avuto di segnare una via una pista di ricerca. Dicevo la conferenza di oggi sia la mia parte che quella che affronterà l'Illigio prende le mosse dal discorso che facevamo l'anno scorso perché appunto si era partite dal patrimonio della scultura genovese e ligure da Staglieno per poi vedere Staglieno dal punto di vista che Sborgi ci aveva indicato cioè Staglieno come modello come serbatoio diciamo di idee e come modello per la scultura latinoamericana in particolare appunto per quella di Lima. Nell'affrontare questo lavoro questo confronto era stato inevitabile già in qualche modo mettere in evidenza un aspetto che è quello che cercherò di tratteggiare almeno in sintesi insomma io oggi cioè l'aspetto della committenza che è ovviamente imprescindibile noi sappiamo che le relazioni di affari economiche tra l'Italia e il Sud America sono state intense e che Genova come porto principale del Mediterraneo porto dell'emigrazione porto da cui partivano le merci ha avuto un ruolo cruciale nel secondo ottocento in quel momento appunto i due cimiteri diventano l'immagine di tutto questo e appunto molto spesso è diciamo naturale partire dai monumenti funerari per poi andare a ricostruire le storie delle famiglie le storie delle persone ed è questo uno dei lavori che io da anni faccio su Staglieno e che penso ci coinvolgerà molto quando riusciremo a visitare Lima e a visitare il presbitero maestro ora però per ovviamente per cercare di fare un lavoro offrirgli un po' una sintesi un po' un assaggio di quello che potrà diventare il nostro lavoro di ricerca oggi ho pensato di concentrarmi su alcune emblematiche storie di successo di genovesi e liguri che da Genova appunto dall'Europa sono partiti per andare in Perù e a Lima in particolare e che poi dal Perù sono rientrati a Genova portando con sé bagagli culturali e tanti denari anche e intrecciando significative relazioni però con il Sud America lasciandovi delle tracce dal punto di vista artistico e lasciando altrettante tracce nella nostra regione nella nostra città ora per introdurci un po' a questo argomento il prima scusate che faccio la prima slide eccola allora la prima slide è questa che ci introduce un po' nell'argomento allora si tratta di un frontespizio di un volume che è stato un vero e proprio best seller nell'Ottocento il titolo è Volere e Potere l'autore Michele Lessona il signore che vedete sulla destra il libro è stato pubblicato nel 1869 un vero e proprio best seller perché ha avuto 14 edizioni 14 ristampe ed è un libro fondamentale per chiunque affronti questo secondo Ottocento un'epoca in cui si assiste allo sviluppo di biografie del tutto eccezionali di uomini di veri e propri self-made men che non temono diciamo di lasciare la propria patria alla ricerca di fortuna che spesso vengono poi trovate in paesi molto lontani Volere e Potere è in realtà non è altro che diciamo la versione italiana di un altro libro molto famoso nel secondo Ottocento nel secondo Ottocento che è il Self-Hack di Smiles pubblicato a Londra come vedete nel 1859 la traduzione dall'inglese era chi si aiuta o Dio l'aiuta come vedete sulla destra ovvero storia degli uomini che da nulla se però innalzarsi ai più alti gradi in tutti i rami della umana attività si capisce già molto bene da questo lungo titolo quali siano i contenuti sia del libro di Smiles che appunto della versione italiana pubblicata da Michele Lessona la versione di Michele Lessona nasce diciamo sull'incentivo del ministro Benabrea che invita i diplomatici italiani a segnalare casi di successo e il libro che si compone di 14 capitoli dedica un capitolo anche a Genova e alla Liguria a Lessona piacciono tra l'altro molto i genovesi perché i genovesi hanno dei difetti certo ma i loro difetti non sono altro che l'esagerazione dei loro pregi lo spirito di speculazione l'avarizia la grettezza in realtà possono si traducono anche in una grandissima capacità di lavoro e uno stile di vita severo che appunto il Michele Lessona apprezza vi ho fatto questo questo piccolo cappello perché questo ci serve a introdurre il primo personaggio di cui vi parlerò che è sicuramente anche il più conosciuto penso ancora oggi in Perù e a Lima Giuseppe Canevaro Giuseppe Canevaro è uno dei personaggi una delle personalità che vengono presi a modello nel testo di Michele Lessona anzi diciamo che nel capitoletto dedicato a Genova Lessona gli dedica ben 13 pagine mentre ne dedica soltanto 10 a Napoleone a Garibaldi scusate 8 a Niccolò Paganini 8 a Camillo Sivori e solo 3 poi a Gerola Movocardo sono questi diciamo i genovesi individuati come grandi personaggi quindi un personaggio assoluto di grandissima importanza chi è Giuseppe Canevaro appunto dalla bibliografia tracciata da Lessona poi ne nascono e ne derivano molte altre beh era nativo di Zoagli piccola località nei pressi di Chiavari era nato nel 1803 era partito giovanissimo per andare per mare era stato avviato la navigazione dal padre e navigando appunto giovanissimo aveva poi diciamo scelto alcuni luoghi del Sud America dove iniziare diciamo a impiantare la propria vita vita e attività soprattutto commerciale nel 1834 dopo essere stato in Ecuador e a Panama Canevaro si stabilisce a Lima e qui sposa una donna del posto che in realtà aveva origine genovesi perché si chiamava Vallega e suo padre era un commerciante di Spotorno altra località della Liguria in questo caso di Ponente che era arrivato a Lima e qui si era stabilito come commerciante e da questo matrimonio nasceranno ben 12 figli la vita di la biografia di Giuseppe Canevaro si caratterizza per una forte capacità nell'ambito degli affari ma anche per un acceso patriottismo patriottismo che non è anche uno dei motivi per cui il rapporto con l'Italia non viene mai reciso anzi resta un elemento fondante della biografia di Giuseppe Canevaro il quale è un fedelissimo monarchico nonostante Filosabaudo legato a relazioni di affari e di amicizia addirittura a Cavour il quale apprezza le qualità del commerciante e che apprezza soprattutto l'oggetto del commercio in cui Canevaro si afferma cioè il guano il guano è un fertilizzante apprezzatissimo appunto nel secondo ottocento e Cavour che era anche un imprenditore agricolo nelle sue terre ne faceva ampio uso questo è tra l'altro documentato da una lettera che lo stesso Lessona gli pubblicò il rapporto con l'Italia non viene reciso dicevo e anzi nella seconda parte della sua vita Canevaro rientrerà in Italia parteciperà in qualche modo anche alla seconda guerra di indipendenza guadagnandosi delle importanti benemerenze e proseguendo l'attività la seconda attività che affianca quella del commercio che è quella l'attività armatoriale perché appunto per trasportare questi quantitativi enormi di guano occorrevano delle navi e quindi il trasporto avveniva con navi di cui gli stessi Canevaro sono armatori dal rapporto stretto con la monarchia Sabauda nasceranno poi e dai meriti guadagnati appunto attraverso il sostegno diciamo al processo di unificazione dell'Italia nasceranno poi degli importanti diciamo vantaggi e soprattutto il conferimento del titolo di conte e poi di duca al nostro Giuseppe Canevaro qui lo vediamo in questa statua in bronzo raffigurata in una posa quotidiana in una scultura che si trova proprio nel centro di Zoagli che gli viene dedicata dall'ospedale di Zoagli che lui aveva ampiamente beneficato perché un'altra delle caratteristiche della vita di Giuseppe Canevaro è appunto questa attenzione alla filantropia la ricchezza guadagnata dal nostro è tale e tanta che se ne vedono i segni se ne vedono i segni intanto nella nativa Zoagli qui vedete un'immagine sia dall'alto che dal mare di Castello Canevaro il Castello Canevaro in realtà non è altro che un assemblaggio diciamo di edifici anche d'alta epoca che Canevaro compra e appunto mette insieme trasformando appunto delle architetture d'epoca precedente in una sorta di castello in stile più o meno neogotico secondo alcuni a realizzare tutto questo è un architetto di origine toscana che si chiama Giuseppe Partini che sarà anche colui che realizzerà sempre a Zoagli la tomba del Canevaro qui rivedete alcune immagini d'epoca del Castello che come avete già visto nella slide precedente esiste tuttora e tra l'altro è anche abbastanza frequentato perché lo ha in gestione nel famoso ristorante che fa catering a Recco e il Castello appunto ha questa connotazione di stampo neogotico l'architetto Giuseppe Partini non a caso aveva firmato qualche anno prima a Chiavere il Palazzo di Giustizia che vedete nell'immagine in basso in questa slide come vi dirà poi meglio Lili Ghio e come già in qualche modo è stato anticipato dagli studi Giuseppe Canevaro è una figura chiave a nostro giudizio per quel che finora siamo riusciti a capire delle relazioni tra Genova e Lima a metà ottocento anche nel favorire le relazioni artistiche perché appunto è un uomo così stimato sia a Lima che in Italia che è probabile che alcune commissioni molto molto significative abbiano diciamo anche a che fare con il suo intervento in particolare Lili Ghio oggi vi parlerà del monumento a Cristoforo Colombo secondo alcuni biografi di Canevaro proprio diciamo dietro le quinte di questa commissione ci fu appunto un intervento di Canevaro che comunque non si limitò ad apprezzare questo artista perché la sua famiglia in realtà commissionò opere d'arte anche ad altri artisti tra cui Giovanni Battista Cevasco che prima è stato citato da Silvia Vallini ora la grande numerosa famiglia Canevaro avevamo detto prima contava ben 12 figli e tra questi figli naturalmente le figlie femmine riescono a sposare i rampolli dell'aristocrazia italiana ma i figli maschi invece hanno dei ruoli significativi in ambito pubblico ormai appunto la figura di Canevaro è affermata già a metà dell'Ottocento almeno tre dei suoi figli maschi che qui vediamo in questa foto d'epoca avranno ruoli assolutamente rilevanti tra l'Italia e il Perù stesso il primo Giuseppe Francesco che in realtà qui vediamo sulla destra era nato nel 36 a Lima diventa addirittura vicepresidente della Repubblica del Perù e vive in realtà vive tra il Perù e l'Europa a casa Parigi e casa Venezia naturalmente il legame con l'Alguria Zioaglio non termina non cessa però è importante vedere la dimensione europea poi di questa famiglia gli altri due sono Felice Napoleone li rivediamo anche qui Felice Napoleone e Cesare pure diventano personaggi di altissima rilevanza nella storia nelle relazioni tra i due paesi in particolare Felice Napoleone sarà in Italia deputato senatore ben due volte della Marina il ministro degli Esteri dopo una importante carriera in ambito militare e Cesare il terzo dei figli maschi anche conta su un'importante attività oltre che appunto un campo degli affari come banchiere attività militare e diplomatica e pure lui sarà vicepresidente della Repubblica Peruviana è ovvio che appunto assurti a questi livelli alti livelli Canevaro si dotino di altre importanti dimore abbiamo citato quella di Parigi ma Giuseppe Canevaro per esempio non morirà a Zoagli ma morirà alla Spezia nel palazzo che vedete in alto a destra e che oggi siede del Curiac Vescovile della Spezia un palazzo a Venezia vi citavo questo palazzo che vedete in basso a Firenze che poi ha assunto un altro nome ma che comunque è stato loro proprietà l'affermazione dei Canevaro anche grazie al fatto che sono una famiglia così numerosa diciamo avviene a livello internazionale non coinvolge solo l'Italia il Perù e la Francia che abbiamo citato ma i figli secondo Lessone i figli di Canevaro si affermano in Cina in Inghilterra in Olanda e in Germania quindi è veramente una famiglia di rilevanza internazionale e pur appunto essendoci un rapporto strettissimo grazie a Giuseppe ancora con la nativa Zoagli dove gli sono intitolati la spiaggia la spiaggia del Duca il lungomare il lungomare Canevaro la piazza principale la piazza Canevaro e una via la via intitolata la duchessa Canevaro ecco perché perché è probabile che un ruolo interessante diciamo dal punto di vista artistico sicuramente lo ha avuto lo abbia avuto la moglie del primo genito cioè il conte Giuseppe Canevaro Giuseppe Canevaro aveva sposato una donna bellissima Luisa Suaier i cui genitori tra l'altro sono sepolti al presbitero maestro di Lima di origine francese e purtroppo la vicenda biografica di Giuseppe Canevaro ha una triste triste fine perché muore in un incidente in un terribile incidente di un treno a causa del deragliamento di un treno di lusso il Sud Express nel 1900 c'è un appunto questo deragliamento provoca la morte di coloro che stavano in questo treno di lusso dentro il vagone ristorante e tra i morti c'è appunto il più illustre è Giuseppe Francesco Canevaro il primo genito del nostro Giuseppe Signor Giuseppe aveva sposato questa donna che qui vedete è figgiata nel marmo una donna bellissima e in vita aveva commissionato a Giovanni Battista Cevasco questa importante scultura che si chiama intitolata anche Il raccoglimento di cui i giornali italiani parlano a lungo parlano a lungo nel momento in cui Cevasco lo scultore genovese mette diciamo ha messo a punto il gesso ne parlano quando viene tradotto nel marmo si dice che questo marmo vada ad adornare debba andare ad adornare il palazzo di Parigi e invece per quanto riguarda la sua vicenda biografica Luisa Suoyer sopravviva al marito era pure lei su quello sfortunato treno ma diciamo viene soltanto ferita le braccia spezzate muore la sua cameriera e la cosa diciamo che la dice lunga sulle ricchezze di questa coppia è che tra le macerie si dice che siano stati ritrovati i gioielli di Luisa che allora valevano un milione cioè oggi il corrispettivo di 4 milioni e mezzo di euro questa è la cifra di cui ci raccontano i giornali del 1900 ecco un'immagine di Luisa una foto di Luisa e anche un francobollo le varrà dedicato in Perù un francobollo negli anni 30 del 900 che qui vedete e la statua che avete visto nell'immagine d'epoca è stata ritrovata in un luogo forse un po' inaspettato perché non era una statua cimiteriale ma è oggi conservata all'interno della cappella della famiglia a Zoagli appunto cappella che viene realizzata dall'architetto Partini di cui vi parlavo prima a proposito dell'intervento diciamo di restyling e di costruzione del castello ora questa immagine di questa bellissima donna appunto pubblicizzata molto dai quotidiani italiani dai giornali d'arte italiani dell'ottocento ha dei parenti diciamo a Lima perché proprio all'interno del presbitero maestro Giovanni Battista Cevasco lascia almeno tre sculture che qui vedete le abbiamo già viste mi pare l'anno scorso di dame con la mantiglia di donne velate sono un po' un'eccezione all'interno di una produzione plastica quella di Cevasco in realtà incentrata soprattutto sulle raffigurazioni allegoriche e raffigurazioni di figure religiose dice infatti un suo biografo che appunto la dama con la mantiglia è in realtà una nota moderna rispetto alle numerose statue di fede speranza carità e angeli che avevano caratterizzato a lungo la produzione di Cevasco il quale arriva quindi ha questo tipo di linguaggio realista abbastanza tardi e qui ve ne faccio vedere altre tre dame proprio un corrispettivo perfetto anche dal punto di vista delle date questa è di nuovo una parentela stretta tra Genova e Lima tra i nostri due cimiteri qui siamo a Staglieno tre tombe a Staglieno dove Cevasco abbandona appunto le figure allegoriche del tardo classicismo per entrare nel linguaggio del realismo borghese in particolare è interessante vedere la tomba di Pietro Badaracco perché come abbiamo capito devo dire pochi mesi fa in realtà le due figure sono vicine non soltanto dal punto di vista della posa della postura del modo in cui sono raffigurati gli abiti ma si tratta di due parenti perché questa la signora Badaracco che vedete sulla nell'immagine di sinistra nei panni della vedova era una sorella di Giuseppe Canevaro il marito Pietro Badaracco lo racconta questa epigrafe questa lunga epigrafe è un altro self made man allo stesso modo di Giuseppe Canevaro era partito da poco era partito da nulla da umili origini come capitano marittimo quindi navigando e poi si era dedicato ai commerci ed aveva fatto fortuna probabilmente sotto legge di Giuseppe Canevaro ma sicuramente aveva fatto fortuna commerciando con il Perù tanto che viene nominato viceconsole del Perù a Chiavari la città degli americani per l'antonomasia di cui oggi parleremo più di una volta ecco questa vedova la vedova di Pietro Badaracco si chiamava Geronima Canevaro era la sorella appunto di Giuseppe e saranno i nipoti cioè quei tre signori che abbiamo visto in particolare Giuseppe e Francesco a occuparsi di chiedere appunto a Cevasco un monumento funerario degno dello zio Pietro che muore senza figli eccola ancora qua è uno degli esempi diciamo più citati del realismo borghese per questo straordinario virtuosismo tecnico che caratterizza l'esecuzione della mantiglia del manto qui ancora foto d'epoca ecco a contendersi diciamo diciamo il primati nei rapporti con l'Italia in questo mondo degli affari caratterizzato dal commercio del guano a contendersi diciamo il primato la rivalità diciamo tra vera e propria rivalità caratterizza la vita di un altro genovese partito caccia di fortuna per il Perù che diciamo è l'antagonista secondo alcune pubblicazioni di Giuseppe Canevaro in realtà forse meno conosciuto anche perché la sua famiglia vedremo poi ha un esito abbastanza diverso Lazzaro Patrone era partito povero da Genova la sua famiglia era una famiglia che abitava nel centro storico di Genova erano venditori di cotone forse ambulanti parte per il Sud America torna come grande arricchito d'America così ci racconta un suo biografo un po' spietato e un altro un poeta ci dice che era un arricchito nelle Americhe leggendario per la sua mania di parlare lui venuto su con nessuna istruzione un italiano pomposo buffamente spropositandolo sapeva stento l'italiano quindi ma a ritorno dal Perù in realtà Lazzaro Patrone che era più giovane di Giuseppe Canevaro mette insieme una quantità di beni assolutamente straordinari innanzitutto torna negli anni 60 dell'800 con una famiglia numerosa ma anche se numerosissima sono sei figli quattro figlie femmine che sposano altrettanti rampolli dell'aristocrazia genovese Cataldi Serra Negrone eccetera e due figli maschi di cui soltanto uno sopravviverà tornato a Genova compra un palco al teatro Carlo Felice il più importante teatro della città acquisisce questa straordinaria villa che tuttora esiste nei dintorni di Genova a Cornigliano la villa Durazzo Bombrini già di origine settecentesca la compra direttamente da casa Savoia perché questa villa era stata fino ad allora negli anni sessanta era rimasta vuota ma era stata abitata per alcuni anni dal quarto figlio di Vittorio Emanuele II lo sfortunato principe odone che qui vedete sulla destra la villa ha caratteri tardo settecenteschi molto elegante ma non basta occorre anche dotarsi di un palazzo in città e quindi il padrone acquisisce il palazzo che oggi nel militare piazza della Zecca palazzo Lomellini un palazzo di nuovo d'alta epoca un palazzo ormatissimo e questi due edifici vengono mantenuti così come erano pieni di opere d'arte pieni di opere d'arte di questa qualità alcune di queste i genovesi le conoscono Paolo Francesca di Frascheri sulla sinistra questa veduta ideale delle città d'Italia in alto e le due sculture una di Santo Varne l'altra di Lorenzo Bartolini come dire il meglio tra Firenze e Genova in campo della scultura queste sculture queste dipinti non sono stati comprati da patrone c'erano già in questa soprattutto erano nella dimora di Cornigliano e lui ha il pregio la qualità di mantenerle di tenerle e sarà suo figlio accederle al comune di Genova la parte più significativa mentre molte altre prenderanno altre strade e in queste due dimore c'erano anche diverse opere d'arte che il nostro patrone si era portato dietro da Lima diciamo le note d'archivio i dettagli dai dettagli del suo testamento sappiamo che c'erano vasi peruviani antichi non contento di possedere questi due edifici patrone comprerà anche questa villa che poi è diventata famosa per essere stata la villa di Nobel a Sanremo e si adopererà per aiutare la popolazione dopo il terremoto del 1887 e naturalmente altro essenziale status symbol è una tomba una tomba monumentale che si trova la tomba al cimitero di Staglino la tomba che Patrone fa realizzare da Santo Varni il miglior scultore dell'epoca per la moglie dedicata alla moglie molto raffinata nei dettagli costosissima forse il monumento più costoso tra quelli realizzati da Santo Varni anche per i meravigliosi dettagli di ornato in bronzo vedete questa porta per esempio che viene fatta fondere da una fonderia milanese mentre i marmi arrivano ovviamente da Carrara una tomba che avrebbe dovuto contenere le spoglie dei suoi discendenti ma così non avverrà perché l'unico figlio maschio sopravvissuto Fausto Lazzaro questo signore che vedete in basso a sinistra in realtà di stare a Genova non ne vuole sapere e venderà tutte le proprietà genovesi andando a vivere in Toscana a Castiglioncello dove fa compra terreni e fa realizzare questo castello Castello Neogotico Castello Neogotico che ha tutta una vicenda altrettanto significativa perché questo castello che poi prende il nome di Pasquini sorge su terreni che erano stati posseduti da Diego Martelli il critico dei macchiaioli e personalità bizzarra diciamo abbastanza scostante Fausto Lazzaro che era un uomo piuttosto arrogante in realtà si adopera perché questa località della Toscana diventi un luogo turistico fa costruire la ferrovia cerca di far arrivare l'acqua potabile ma delle opere d'arte che il padre aveva preservato non se ne fa assolutamente nulla questo ha determinato un'enorme dispersione qui avete varie immagini d'epoca di ville piccole di More che vengono costruite su terreni donati da Lazzaro Fausto padrone a Castiglioncello e che tra l'altro in alcuni casi diventeranno dimore di letterati e artisti importanti per esempio una la villa di Corcos un'altra famiglia su cui soprattutto Lili Ghio ha già cominciato a lavorare è quella di Prato Longo un'altra famiglia di genovesi che si sono arricchiti con il commercio del guano e quindi nelle relazioni intessendo relazioni importanti con il Perù di loro Lili Ghio ha recuperato questi due bei piccoli ritratti che ci mostrano una coppia di nuovo interessante perché una coppia che vede appunto il marito genovese Rocco sposare Cristina Aramburu che era una nobile di origine spagnola che lui aveva conosciuto a Lima in Peru vedete che il ritratto di lei è tratto da questa immagine da questa fotografia anche per Rocco Prato Longo arriverà grazie appunto alla sua non tanto ai commerci quanto al suo spirito diciamo forte senso patriotico il titolo di conte concesso da Vittorio Emanuele II nel 1877 e lo si vede bene questo è mostrato dalla cornice di questo ritratto il loro figlio maschio Vincenzo sposerà Anna Podestà un personaggio che ha un cognome importante per lo meno noto per i genovesi la figlia del barone Podestà sindaco di Genova ed eccoci a un'altra famiglia che quella dei Rainusso di cui forse l'anno scorso avevamo già fatto cenno perché avevo mi ricordo mostrato un particolare di questo di un monumento funerario di Staglieno dove compare il stema del Perù la tomba di Abramo Rainusso al cimitero appunto di Staglieno una tomba di cui vi mostro adesso il progettino è anche l'opera intera realizzata che appunto conserva le spoglie di un esponente di una famiglia in realtà non genovese ma di Santa Margherita Ligure che si è molto affermata nel Perù del secondo ottocento qui vedete un altro dettaglio dall'altra parte da un lato c'è lo scudo appunto che lo stiamo nel Perù dall'altra c'è questo bel cagnolino e la biografia di Abramo Rainusso non è tanto conosciuta è molto più conosciuta invece la biografia di Elia Rainusso Elia Rainusso nato a Santa Margherita Ligure morirà nel 1906 ed è una figura conosciuta vedete già in alto l'immagine del suo funerale per il lascito clamoroso che a fine vita viene destinato a Santa Margherita Ligure viene lasciata una cifra assolutamente strepitosa alla piccola cittadina da cui lui proveniva cioè 3 milioni di lire nel 1906 che corrispondono a 14 milioni di euro che vengono destinati a vari enti bene all'asilo infantile che aveva aperto e a vari istituti un ospizio per anziani eccetera eccetera che lo stesso Rainusso appunto aveva già in vita beneficato tornato dal Perù Elia Rainusso in realtà però non abitava a Santa Margherita Ligure si era fatto si era aveva acquisito due dimore nei pressi di Modena una è questa e la rivedete in basso perché purtroppo poi è andata perduta durante cioè è stata bombardata durante la seconda guerra mondiale mentre in alto ci sono altre immagini del suo funerale e questo palazzo di nuovo che oggi versa in pessime condizioni sempre nel Modenese appunto a Modena aveva bonificato questi terreni dove allevava cavalli numerosi cavalli e Elia Rainusso con il fratello Giosuè è però un personaggio ancora noto a Lima per via di questo edificio che è il Morino di Santa Clara credo che sia oggi un luogo abbastanza conosciuto anche se purtroppo il suo aspetto non è più questo lo conosciamo così grazie a delle foto d'epoca il Morino di Santa Clara viene trasformato diciamo in una specie di luogo celebrativo della gloria italiana e anche della scultura italiana da Elia Rainusso il quale fa decorare la facciata da 18 statue in marmo che raffigurano personaggi illustri come Andrea Doria Galileo Michelangelo Raffaello Dante Cristoforo Colombo Marco Polo Cavur Vittorio Emanuele Garibaldi eccetera poi ci sono figure allegoriche in sempre plastiche Italia l'America la carità la giustizia e la modestia tutte sculture in marmo di Carrara quindi arrivate dall'Italia realizzate da uno scultore fiorentino che si chiama Casoni negli anni 60 e molte delle quali sono andate definitivamente perdute conosciamo attraverso le immagini d'epoca alcune di esse sono oggi invece state rinfracciate in diversi luoghi di Lima e del Perù la vicenda del Molino Santa Clara tra l'altro è stata ricostruita da Nanda Leonardini ad estra avete immagini del Molino come si presenta oggi tra queste sculture c'era una replica della famosa del famoso gruppo della carità di Lorenzo Bartolini il più importante scultore italiano dopo Canova che doveva essere ben noto a Rainusso anche il fratello di Rainusso apprezzava la scultura ed era stato infatti committente di uno scultore genovese molto conosciuto che è Santo Saccomano a cui aveva commissionato un ritratto di Mazzini effigiato dal vero perché Santo Saccomano l'artista era amico di Mazzini ultima famiglia che vi mostro proprio in sintesi la vicenda è la famiglia Cuccio in realtà è una famiglia complicata da studiare perché ci sono omonimie perché c'è un matrimonio tra cugini che complica un po' le cose e sono infatti diversi rami qui ci troviamo a Chiavari le origini dei Puccio sono a Chiavari sono una famiglia diciamo antica che parte già con denari per l'avventura sudamericana una famiglia appunto di ramata che fa però notevole fortuna in Perù forse questa immagine l'avevo già mostrata lo scorso anno perché si tratta di una cappella la cappella significativa opera di uno dei più importanti architetti che hanno operato a Genova tra l'altro novecento che è Gino Coppedè ed è dedicata a Ernesto Puccio Ernesto Puccio figlio di un altro Ernesto Puccio il quale appunto muore giovane il padre appunto fa erigere questa imponente cappella a più livelli ovviamente che è un capolavoro anche del diciamo del secessionismo a Genova grazie al linguaggio di Coppedè ci sono degli elementi simbolici molto stilizzati molto appiattiti molto è un linguaggio che non ha tanti uguali devo dire a Stagliero semmai guarda di più al linguaggio delle cappelle funerarie lombarde e questo è un ramo della famiglia poi c'è un altro e qui la vedete ancora oggi si intravede nella vegetazione purtroppo è cresciuta tantissimo a dismisura poi ci vorremmo una conferenza per parlare dei problemi conservativi si è parlato dei problemi conservativi del Perù di Lima del presbitero maestro ma stagliero non siamo da meno anche se i restauri se ne fanno non basteranno mai appunto la cappella oggi è versa in pessime condizioni ed è circondata da una vegetazione anche infestante insomma che ha proliferato in maniera quasi eccessiva ecco non vi ho messo la foto attuale della seconda cappella dedicata ai Puccio che vedete sulla sinistra che è dedicata a un altro ramo della famiglia vi ho messo un'immagine d'epoca e accanto vi ho messo due immagini a confronto quella d'epoca in alto e quella attuale di una villa posseduta dai Puccio un altro ramo Puccio della famiglia Puccio i due fratelli Giuseppe e Carlo Felice che sono armatori commercianti banchieri commerciavano metalli preziosi con succursali a Londra e a Parigi e si dice che controllassero a un certo punto addirittura il mercato monetario a Lima erano ferventi mazziniani ora questo ramo della famiglia è di nuovo significativo perché tornati in Italia i Puccio si stabiliscono in particolare Carlo Felice uno dei due fratelli si stabilisce in Toscana a Firenze dove si occupa di cultura è socio di diverse accademie ospita artisti e letterati e in particolare è in stretto contatto con il più importante pittore genovese dell'Ottocento che è Niccolò Barabino il nucleo principale dei quadri il nucleo dei quadri di Niccolò Barabino oggi posseduti dalla Banca Carigie di Genova deriva proprio dal collezionismo di Carlo Felice Puccio e dall'amicizia probabilmente che legava Carlo Felice Puccio con Niccolò Barabino qui avete due esempi di queste opere oggi possedute appunto dalla Banca Carigie che sono degli straordinari caporavori del nostro secondo ottocento e sono pervenuti a Genova ma appunto erano in Toscana perché i Puccio si erano trasferiti là e da da questo ramo dei Puccio nasce Francesco Puccio il quale a un certo punto sappiamo possedeva diverse clamorose dimore importanti dimore quella di Genova che vedete in alto la Villa Rosenda all'Albissola Marina era una Villa De Mari e i possedimenti in Toscana appunto alle Bettolle a Siena questi possedimenti da un matrimonio tra due cugini Puccio nasceranno due figli purtroppo però la discendenza il nome si perde perché il figlio maschio muore durante la grande guerra e la figlia femmina sposerà il marchese Orso Serra e quindi diciamo che la vicenda Puccio si chiude qui e si conclude però appunto entrando diciamo all'interno di una tramite la figlia femmina Elvira entrando all'interno di una delle famiglie aristocratiche più antiche omonimo ma probabilmente non parente e questa è l'ultima figura quella di Carlo Sebastiano Puccio Chiavarese Chiavarese è abbastanza originale come personalità Carlo Sebastiano Puccio possedeva questa piccola villa raffinata però a Chiavari tuttora esistente è un personaggio abbastanza conosciuto perché è un personaggio che rientrato dal Perù dove va a fare affari da giovane opta per l'attività diciamo di imprenditore agricolo così vogliamo chiamare diventa enologo insomma si specializza in enologia e trasforma i terreni che possedeva Chiavari che erano diciamo adibiti a vigneti li trasforma scusate a oliveti in vigneti diventando un importante produttore di vini vini che pubblicizza alla grande tant'è che si trovano tantissima pubblicità di questa casa enologica di Carlo Sebastiano Puccio tra cui tra questi vini c'era anche il vino del reno ligustico cosa un po' particolare vini che appunto vengono promossi sulle riviste dell'epoca e queste pubblicità ci raccontano anche che Carlo Sebastiano Puccio era console del Perù era produttore ed esportatore aveva questa produzione interessante e poi a volte accanto alla pubblicità del vino compare anche una piccola immagine di questa tenuta in questa tenuta al di fuori della città di Chiavari Carlo Sebastiano Puccio nella sua casa di fatto aveva allestito un piccolo museo un museo dove si affiancavano diciamo reperti di diverso genere c'era una parte dedicata alla numismatica molto importante altrettanto importante erano i reperti che lui aveva portato dal Sud America ora tutti questi erano tantissimi reperti portati dal Sud America e anzi i cronisti dell'epoca dicono che lo spazio era troppo ristretto a contenere tutti questi capolavori è probabile che una parte di questi capolavori sia poi pervenuta dal Comune di Genova ma questa è una ricerca che ancora dobbiamo fare e quindi speriamo poi di darvene notizia e io con questo ho chiuso la mia parte adesso non so come vogliamo procedere perché direi che abbiamo chiuso grazie Caterina tra l'altro ho chiuso la tua parte in anticipo di quattro minuti meno male perché non ho guardato brava hai parlato rapidissimo velocissimo e sono sicura che i nostri interpreti sono veramente abili e hanno sicuramente riprodotto tutti i concetti con precisione con la precisione che caratterizza dove vai? posso portare spazio a Lilli? ah vi cambiate di posto ok me ne vado me ne vado benissimo e quindi Lilli la professoressa Lilli Ghio adesso si buongiorno buongiorno non stavo guardando come dovevo collocarmi eccola Lilli grazie grazie mille e appunto abbiamo previsto un momento di tavola rotonda dopo le due conferenze quindi tutte le domande numerosissime che io cioè più che domande è così non osservazioni ma comunque commenti ecco tanti che mi sono sorti venuti in mente ascoltando Caterina li rimando insieme alle altre domande del pubblico che ci che ringrazio di rimanere con noi ben 40 persone e quindi a dopo la momento successivo alla conferenza della professoressa Lilli Ghio che ci parlerà ho recuperato il titolo della scusate della della conferenza di Lilli ci parlerà di un profilo di Salvatore Revelli artefice del monumento a Cristoforo Colombo per Lima ti lascio senz'altro la parola grazie Silvia grazie Silvia e grazie a tutti coloro che sono collegati con noi dunque faccio ecco grazie è partita ok si vede quindi dunque io parlerò di questo scultore Salvatore Revelli uno scultore dal quale mi sono occupata a più riprese già molti anni fa e un autore che ho scelto perché ha precisi legami con Lima è l'autore di uno dei più importanti più celebri monumenti pubblici di Lima il monumento a Cristoforo Colombo e poi perché vedremo lo ribadirò gli studi anche agli studi nei confronti di questo artista ha dato un impulso decisivo il professor Sborgi dunque Salvatore Revelli è uno scultore nato è uno scultore libore nato non a Genova ma in una cittadina del ponente ligure taggia una cittadina che oggi è nella provincia di Imperia e fu poi a lungo residente a Roma ma con la terra natale con la terra natale più in generale con la Liguria vedremo mantenne comunque duraturi rapporti ed è come precisato in apertura l'artefice negli anni 50 dell'ottocento del monumento a Cristoforo Colombo per Lima le fonti ottocentesche i biografi ottocenteschi hanno fornito della vicenda di Revelli una lettura sostanzialmente ageografica restituendone per lui costruendo intorno a lui una vita d'artista esemplare caratterizzata da una straordinaria attitudine tecnica e da una altrettanto incomparabile nobiltà d'animo ma non hanno fornito appunto una traccia criticamente ordinata quindi l'avvio degli studi moderni su quest'artista si deve proprio a Franco Sborgi in particolare la figura di Revelli è contemplata contestualizzata in quell'importante testo curato da Franco Sborgi per il secondo volume della scultura Genova in Liguria che rimane ancora pubblicato negli anni 80 ancora testo a cui ha collaborato anche Caterina Caterina Olcese e che rimane a tutt'oggi il più organico testo sul complesso della scultura Ligure della seconda metà dell'Ottocento e del primo Novecento Franco Sborgi poi ha con assoluta convinzione e con generosità sostenuto gli studi successivi che altri studiosi hanno avviato intorno alla figura di quest'artista studi che poi sono ricerche ecco nella slide potete vedere la prima immagine riproduce la prima biografia dedicata a Salvatore Revelli nel 1860 da Giovanni Battista Gallo Giovanni Battista Gallo era un canonico di Taggia nativo di Taggia professore nel seminario di Farfa e che fu a lungo per lungo tempo vicino a Revelli negli anni romani quindi lo conosceva bene anzi nei primi anni 40 fu maestro di lettere e di erudizione classica ma appunto Gallo restituisce di Revelli una lettura per così dire ageografica e romanzata mentre gli studi cui lo stesso professor Sborgi ha in tempi moderni dato avvio sono poi confluiti in un volume pubblicato nel 1995 che qui vedete Titanico e Cristiano l'arte di Salvatore Revelli curato da Fulvio Cervini ma che è stato costruito intorno al restauro della deposizione di Cristo di Revelli conservata nell'oratorio dei Rossi di Taggia il cui restauro è stato curato dalla soprintendenza in particolare diretta da Franco Boggero e in questo volume si propone una complessiva revisione critica della vicenda artistica di Revelli anche sostanziata dall'apporto dalla consultazione delle fonti d'archivio soprattutto del ricco carteggio dell'artista con i suoi committenti vedremo i suoi committenti portorini Maurizio e Tommaso di Tardi nel 2009 c'è stato un secondo convegno sempre organizzato dalla soprintendenza in occasione del centocinquantenario della morte dell'artista che ha proposto raccolto una serie di indagini di nuove indagini e ricerche che danno conto anche proprio di una rinnovata attenzione nei confronti di questo artista nel quadro di un più generale crescente interesse nei confronti della scultura dell'Ottocento la figura di Revelli è stata poi occupata anche nella mostra di cui vedete riprodotto il catalogo risorgimenti di marmo e colore che è stata organizzata nel 2011 ad Imperia e nel cui catalogo sono confluiti anche in parte sono stati anticipati in parte i contributi dei partecipanti al convegno del 2009 i cui atti sono stati invece pubblicati successivamente nel 2014 i contributi dei diversi studiosi sono stati peraltro nel contempo arricchiti con nuovi apporti e il volume appunto è stato pubblicato nel 2014 a cura di Franco Boggero e Francesca De Cupis funzionari funzionari storici dell'arte funzionari di soprintendenza e vedete che questa volta sulla copertina è riprodotto un particolare del monumento di Colombo a Lima proprio per mostrare l'apertura anche dell'attività di quest'artista che non è limitata a un ambito locale e questo volume appunto ripeto pubblicato nel 2014 è stato dedicato a Franco Sborgi Franco Sborgi un ricordo affettuoso e grato proprio per l'aiuto e la partecipazione con cui ha sempre seguito questo tipo di ricerche ecco qui abbiamo un'immagine di l'unico ritratto che fu eseguito fu realizzato quando Revelli era ancora in vita non ne conosciamo l'autore qui Revelli ci si presenta comunque nel momento della sua nel momento all'apice della sua carriera perché lo vediamo indossare la diciamo la divisa di accademico di San Luca che è una nomina che Revelli riceve soltanto nel novembre del 1858 e appuntata sul petto invece la croce di cavaliere dei santi Maurizio Lazzaro una onorificenza sabauda che Revelli aveva ricevuto nel 1856 quando consegnò poi lo vedremo la statua ufficiale è stato a ritratto ufficiale della regina Maria Adelaide e in quindi un ritratto che si col che è stato realizzato poco prima della scomparsa dell'artista avvenuta nel giugno del 1859 Revelli muore molto giovane ecco qui abbiamo dunque c'è si vede sullo sfondo uno scorcio della nativa taggia e in primo piano invece il ritratto eseguito da da Revelli ormai negli anni romani di Vincenzo Lotti Vincenzo Lotti il canonico Vincenzo Lotti che fu colui che scoprì il talento del giovane Revelli diciamo le biografie come quella di Giovanni Battista Gallo che abbiamo ricordato in precedenza ricordano l'attitudine del giovanissimo Revelli l'attitudine artistica la sua capacità di modellare la creta con la quale realizzava figure e gruppi però non abbiamo indicazioni diciamo più puntuali sugli esordi Vincenzo Lotti ebbe il merito di presentare il giovane Revelli a Maurizio Littardi appartenente ad una eminente famiglia di Porto Maurizio quindi della vicina Porto Maurizio Porto Maurizio e oggi è uno dei due nuclei principali che compongono la città d'Imperia ma l'unione tra Imperio Oneglia e altri centri vicini tra Porto Maurizio e Oneglia e altri piccoli centri vicini per costituire l'odierno Imperio avvenne soltanto nel 1923 quindi ancora Porto Maurizio era un centro autonomo e Maurizio Littardi importante esponente di questa importante famiglia era a sua volta artista dilettante e fu rimase poi anche negli anni romani in contatto con Ravelli di cui fu il principale corrispondente epistolare ed è grazie alle lettere a questo carteggio fra Ravelli e Littardi che noi possiamo ricostruire su più salde documentate basi soprattutto è la principale fonte per ricostruire la ventennale attività romana dell'artista Maurizio Littardi però inviò il giovane Ravelli al fratello il conte Tommaso Littardi che risiedeva allora a Tolone dove ricopriva un'importante carica nell'ambito dell'amministrazione fiscale francese la carriera di Tommaso Littardi si era avviata già negli anni dell'impero dell'impero napoleonico e poi in età di restaurazione aveva assunto la carica di ricevitore generale delle imposte del dipartimento del Var a Tolone dove appunto lo raggiunse il giovane Ravelli ecco sugli anni e grazie all'appoggio di Tommaso Littardi Salvatore Ravelli fu ammesso alla scuola dell'arsenale di Tolone la scuola di scultura dell'arsenale di Tolone che era un grande laboratorio di arti applicate dove rimase per circa tre anni apprendendovi la tecnica dell'Italio Ligure e incominciò addirittura nel settembre vi si recò ai primi del 1836 vi rimase tre anni fino al primi del 1839 e qui incominciò vi apprese la tecnica degli intaglio Ligure e dal settembre del 1836 incominciò anche a percepire un regolare stipendio contemporaneamente frequentava il laboratorio di uno scultore di origine carrarese François Rossi dove apprendeva la tecnica della scultura in marmo e il conte Littardi seguiva costantemente i progressi del giovane del quale sarebbe rimasto poi a lungo il principale mecenate almeno fino al 1848 fornì al giovane Revelli un sussidio mensile per il suo sostentamento pochi dati sicuri abbiamo sulla prima attività sugli stimoli culturali e sulla prima attività di Revelli a Tolone certamente qui riproduciamo invece la sua opera diciamo l'opera più importante conservata a taggia realizzata negli anni francesi è questo busto reliquiario di San Benedetto una scultura come vedete in legno legno dorato con diciamo anche che riprende da un lato manifesta l'abilità acquisita dal giovane artista nell'intaglio lineo e dall'altro si riallaccia anche alla tradizione della scultura linea devozionale che era molto diffusa soprattutto nel ponente ligure è una come vedete è un'immagine che ancora ha una connotazione neosecentesca quasi barocca anche proprio per la ricchezza la profusione dell'oro e che comunque può trovare confronti anche con le opere che Revelli conosceva come dire con cui aveva familiarità nel laboratorio dell'arsenale di Tolone e qui per confronto presentiamo una colossale figura di Nettuno che era figura di prua dell'omonimo vascello che ancora si conserva a Tolone nel Museo Nazionale della Marina e che venne prodotta appunto da quel laboratorio agli inizi del XIX secolo che mostra effettivamente affinità con questa diciamo prima il primo prodotto del nostro scultore però la svolta decisiva poi nell'ambito della vita e nella carriera di Revelli si ebbe nel 1939 quando il conte Tommaso Littardi decise di fargli proseguire gli studi a Roma scelse Roma piuttosto che Parigi pare perché sollecitato dalla moglie la moglie era Anna Corvetto figlia di Luigi Emanuele Corvetto che aveva ricoperto incarichi importanti a Parigi sia nell'età di Napoleone poi era all'epoca poi ministro delle finanze francesi e quindi fu Anna Corvetto Littardi a sollecitare a diciamo indirizzare la scelta verso Roma sembra sollecitata dal fratello di Salvatore Giovanni Battista che era frate Cappuccino col nome di Padre Felice comunque sia al suo arrivo a Roma Revelli trovò appunto un il suo protettore importante cui appunto i Littardi avevano indirizzato il cardinale Luigi Lambruschini Luigi Lambruschini che era allora segretario di stato del pontefice Gregorio XVI e diciamo quindi gli anni romani di Revelli si avviano proprio sotto l'egida del cardinale Lambruschini che lo affidò a due maestri diciamo di grande esperienza Tommaso Minardi il pittore Tommaso Minardi grande professore di disegno abilissimo professore di disegno e soprattutto lo scultore Pietro Tenerani Pietro Tenerani scultore di origine carrarese che peraltro si era trasferito presto a Roma era stato per 15 anni allieve collaboratore della scultore danese Bertoltol Varsen e ormai a questa data ero uno scultore pienamente affermato richiesto da una committenza internazionale e fu la guida veramente esemplare per Revelli qui mostriamo ecco alcune opere di Pietro Tenerani in particolare tra opere diverse di diverse tipologie la bella psiche abbandonata la cui prima redazione risale ancora nel 1816 19 come vedete tutte le opere sono caratterizzate da una intonazione classicista quindi che guarda naturalmente i modelli antichi o dei maestri come Antonio Canova e Thorvaldsen ma poi alimentata anche dallo studio del naturale che si sentiva ormai imprescindibile per dar sostanza all'intenzione da una resa affinata dei sentimenti da una resa espressiva attenta e talvolta come nel caso dei soggetti religiosi lo si vede molto bene nella figura di San Benedetto realizzata per la basilica di San Paolo fuori le mura anche con uno sguardo attento ora ai cosiddetti primitivi cioè i maestri del tre e quattrocento e quindi che sono diventano in questo momento un riferimento importante siamo nell'affermazione della cultura romantica quindi si guarda anche a questa età e i maestri tre quattrocenteschi sono un riferimento soprattutto per quella corrente alla quale di cui anche Tenerani fu un esponente di primissimo piano che è detta purismo e qui abbiamo invece un Tenerani che si cimenta sempre in un soggetto mitologico con evidente richiamo al modello classico al modello della statuaria antica anche tipologico e poi con una resa come dire molto efficace dell'anatomia del corpo che ricorda che dichiara proprio gli studi compiuti sul naturale ecco ecco naturalmente nello studio di Tenerani il Revelli riprende traprende un nuovo riter formativo rifondando su basi più salde appunto tutta la padronanza dei mezzi tecnici e formali e quindi lo troviamo impegnato nello studio di Tenerani e poi a casa nelle ore serali in un assiduo esercizio di traduzione di copia dei modelli di opere di Tenerani ma anche soprattutto di modelli antichi ai primi degli anni nei primissimi all'inizio degli anni 40 inizierà a frequentare anche i corsi dell'accademia e ottenendo già in quell'anno il primo premio nel concorso riservato ai giovani allievi con una copia del torso dal belvedere ma nonostante le difficoltà economiche di cui non manca di lamentarsi con i suoi corrispondenti nel quarteggio cerca di sostenere la spesa l'onere del pagamento dei modelli viventi come sulla scorta appunto delle indicazioni del maestro poiché soltanto dallo studio del naturale appunto poteva ricevere sostanza il lavoro di invenzione nel fruttempo ecco le opere condotte realizzate da Revelli nei primi anni 40 ci sono noti soltanto dalle fonti non è giunto nessun pezzo film a noi però sappiamo che intensa fu l'attività di questi anni in cui il giovane artista anche cercava di trovare delle possibili commissioni anche lo stesso Tenerani lo avrebbe esortato a non adattarsi per necessità a un lavoro di semplice giornaliera nel suo studio ma di procurarsi qualche più stimolante incarico esterno e di fatto sappiamo che nel 1842 portò a compimento una statua marmorea della Madonna alla Mater Puritatis alta metà del naturale che intendeva donare al sovrano Sabaudo Carlo Alberto per battirare appunto su di sé le attenzioni della committenza di corte l'opera però non fu accettata dalla corte e venne allora esposta dall'artista l'anno successivo alla mostra annuale della società degli amatori e cultori delle belle arti qui propongo una potete vedere una redduta di piazze del popolo a Roma dove aveva sede in prossimità della Dogana nelle sale adiacenti alla Dogana la diciamo la società che ogni in cui era stata fondata da poco nel 1829 per dare ai giovani soprattutto ai giovani la possibilità di esporre e di vendere le loro opere e quanto appunto afferma anche Revelli qui ho riportato un brano di una lettera ricorda essendovi ora qui una pubblica esposizione dove tutti gli artisti di qualunque genere e di qualunque nazione possono esporre le loro opere a questo proposito il mio professore mi esortò a esporre la Madonna e di unirmi a questa artistica congregazione pagando la somma di scudi sei romani l'esposizione della Mater Puritatis gli valse anche la prima segnalazione da parte della stampa romana il Tiberino e poi anche l'album di Roma dove però l'articolo si deve a Giovanni il Battista Gallo che comunque era legato a Revelli ecco la prima opera comunque importante di Revelli e la prima importante commissione pubblica che il giovane artista ricevette fu quella per la deposizione di Cristo un'opera che Revelli aveva già incominciato a modellare nell'estate del 1844 nel carteggio dell'artista si capisce che già verso la fine di quell'anno si profilava una qualche importante commissione perché Revelli decide di affrontare la spesa per i modelli viventi di tradurre l'opera in gesso che è il passaggio naturalmente imprescindibile per la successiva traduzione in marmo e di fatto nel 1845 giunse la commissione della traduzione in marmo dell'opera da parte della regina Maria di Maria Cristina di Borgone regina vedova di Sardegna era la vedova di Carlo Felice era rimasta vedova di Carlo Felice nel 1831 ed è un personaggio molto importante perché svolse tanto più dopo la morte del marito un'intensa attività di promozione artistica da prima rivolta soprattutto all'ambito archeologico promosse gli scavi condotti nelle sue tenute laziali a Tuscolo e nel territorio di Veio ma poi dai primi anni 40 quando poi la regina fece ritorno a Torino dal 42 fece ritorno a Torino rivolta soprattutto alla produzione contemporanea cercando anche di favorire i giovani artisti per dar modo loro di cimentarsi ed eventualmente di affermarsi grazie a qualche carico importante probabilmente come si evince fra l'altro dal carteggio con che tra il che tra il ecco di scusate come si evince dal carteggio tra il conte di Collobiano che era mastro di casa di Maria Cristina e l'architetto Canina che da Roma si orientava diciamo nell'ambito del degli artisti presenti per individuare per selezionare insomma coloro a cui diciamo commettere le opere fu soprattutto grazie all'interessamento di Tenerani che si Revelli ottenne questa commissione e una sicuramente in quest'opera si può ben rilevare l'affinità tra il linguaggio del giovane artista e quello del maestro negli stessi anni in cui nello stesso anno in cui Salvatore Revelli lavorava modellava la deposizione e proprio negli studi nello studio di Tenerani il maestro lavorava alla realizzazione della splendida deposizione di Cristo destinata nella cappella Torlonia di San Giovanni in Laterano che venne poi che tradotta in marmo venne collocata nel luogo destinato nel 1846 quindi sicuramente la deposizione del maestro fu punto di riferimento essenziale per l'esecuzione dell'opera da parte dell'allievo opera di cui peraltro possediamo ecco la redazione scusate la redazione finale in marmo si trova nella chiesa di San Massimo a Torino venne portata a compimento in un periodo di tempo piuttosto lungo è datata infatti 1849 perché diciamo certamente subì un rallentamento a causa delle vicende turbinose degli anni del 47 e il 49 nel 48 sappiamo si collocano le vicende della prima guerra di indipendenza la sconfitta la fatal Novara per Carlo Alberto la morte di Carlo l'esilio poi la morte di Carlo Alberto quindi vicende drammatiche per la casa reale e naturalmente non solo per la casa reale a Roma e fu la parentesi della Repubblica Romana il Papa in esilio a Gaeta quindi sono anni molto travagliati di cui dà conto anche Revelli nel suo carteggio la deposizione venne quindi portata a compimento nel 1849 dopo la morte della regina Maria Cristina e poi fu collocata nella fu trasferita a Torino nel 1850 e poi collocata nella chiesa di San Massimo per volontà di uno degli eredi di Maria Cristina vale a dire il Duca Ferdinando Maria il ecco però del rilievo con la deposizione esistono diverse versioni esistono diverse relazioni in gesso questa che voi vedete è quella che si conserva ancora a taggio nel paese natale dell'artista nell'oratorio della Santissima Trinità ed è come ha ben sottolineato Franco Boggero che tutte queste versioni attentamente studiato è proprio il gesso originale da cui è stato tratto il marmo di Torino il gesso è stato poi tra questo questa versione in gesso è stata poi trasferita a taggia dopo la morte dell'artista e successivamente è stata rivestita di una policromia che non era prevista abbiamo sottolineato messo in evidenza il particolare della figura di Maddalena perché in questo bel volto non convenzionale si può notare appunto lo studio dei modelli viventi l'artista invece trasse poi dal marmo di Torino altre due versioni in gesso due calchi in gesso che donò rispettivamente nel 1850 all'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova e all'Accademia di Belle Arti di Perugia che entrambe accolsero l'artista fra i loro fra gli accademici loro membri ecco nel 1850 scusate nel 1845 Revelli espone per la prima volta alla mostra dell'Accademia Ligustica di Genova e probabilmente perché già si profilava sulla scena cittadina il progetto del un progetto della realizzazione di un monumento a Colombo ecco e infatti proprio in quell'anno venne si era annunciato era stato bandito un concorso per il progetto di insieme dell'opera al quale lo stesso Revelli aveva aderito perché in conformità appunto alla volontà di apertura all'intera nazione italiana che fin dal suo esordio aveva ispirato l'iniziativa colombiana come ha ben sottolineato Sborgi che di questo argomento veramente è stato il primo studioso per il progetto di insieme dell'opera al quale i numerosi modelli presentati vennero richiesti a questo concorso aderirono artisti provenienti da diverse parti d'Italia e i numerosi modelli presentati vennero poi sottoposti al giudizio della milanese Accademia di Brera risultò vincitore del progetto d'insieme l'architetto Michele Canzio infatti qui presentiamo mostriamo il progetto del monumento a Colombo secondo il disegno di Canzio che come vedete già è molto simile a quello che poi sarà la redazione definitiva del monumento tuttavia anche Revelli venne ritenuto degno di figurare nel novero degli scultori incaricati dell'esecuzione delle statue e dei Barsorilievi e quindi venne accanto all'illustre Lorenzo Bartolini di cui Caterina Alcese vi ha mostrato già opere al quale fu assegnato il gruppo principale al genovese Giuseppe Gaggini ai toscani Emilio Santarelli Aristodemo Costoli e Luigi Pampaloni a Revelli venne affidato uno dei quattro Bassorilievi del basamento raffigurante poi lo vedremo il Colombo incatenato e in carico che venne ufficialmente annunciato all'artista nell'agosto del 1846 la realizzazione del monumento poi lo vedremo si sarebbe protratta per circa 16 anni avrebbe comportato il coinvolgimento anche di altri scultori ma la posa della prima pietra fu comunque attuata il 27 settembre 1846 in coincidenza con l'apertura dell'ottavo congresso degli scienziati italiani che proprio Genova in quell'anno ospitava all'esposizione della ligustica allestita per l'occasione partecipò anche Rebelli che si era recato di persona a Genova e presentò in quell'occasione anche una coppia di sculture raffiguranti la Vergine Annunziata e l'Angela Annunziante che poi l'artista offrì a Carlo Alberto e che di fatto ancora oggi a Torino nel Palazzo Reale si conserva il busto bellissimo della Vergine Annunziata che richiama un'altra opera di Tenerani l'Angelo della Ressurrezione per il monumento a Maria Colonna Lante in Santa Maria Supra Minerva non rimane traccia dell'Angela Annunziante sappiamo tuttavia che un po' come era accaduto per il basso rilievo con la deposizione che venne poi di fatto trasferito a Torino soltanto nel 1850 appunto solo in quell'anno vennero pagate all'artista anche queste sculture e diciamo che in questi anni fra 46 e 47 si avviano anche molti altri rapporti con la committenza genovese in particolare con una prestigiosa committente la Marchesa Teresa Corsi Pallavicino e sui rapporti fra Radelli e non solo più in generale sulla figura di Teresa Corsi Pallavicino come committente di molti artisti donna colta generosa mecenate e sugli interventi e sugli arredi da lei richiesti per il palazzo che insieme al marito aveva che il marito aveva acquistato nel 1836 il palazzo Pallavicino in piazza Fontane Marose e su tutto questa diciamo su tutti questi aspetti fondamentali sono appunto i contributi di Caterina Olcese che ha approfondito a più riprese queste tematiche la Marchesa soprattutto dopo la scomparsa del marito ecco qui scusate questo è un ritratto eseguito il primo ritratto eseguito da la prima opera eseguita da Revelli per la Marchesa il ritratto che venne realizzato fra 1846 e il 47 presentato nel 47 all'esposizione della Ligustica questo bellissimo busto in marmo e poi altre opere l'artista realizzò sappiamo fra l'altro che in un successivo soggiorno genovese del 1851 collaborò anche alla decorazione interna del palazzo e soprattutto poi realizzò in tempi però piuttosto lunghi che comportarono anche un cambiamento nella scelta dei soggetti realizzò comunque le due statue importanti di Elena e Paride che vediamo appunto sono collocate sono collocate nell'atrio del palazzo a tutt'oggi nell'atrio del palazzo entro due nicchie che incorniciano in una sistemazione che comunque furono collocate fin dall'inizio nell'atrio del palazzo la collocazione così come la vediamo con la decorazione delle nicchie e la terza statua che è una copia dell'antino realizzata dallo scultore Niccolò Traverso acquistata sul mercato antiquario è una sistemazione però che risale ormai agli anni 70 dell'Ottocento e che fu promossa da Stefano Ludovico Pallavicino figlio di Teresa Corsi anche se la commissione che pagò nel 1855 le statue di Revelli ma che erano state presumibilmente commissionate su idea ancora della madre un'ultima opera importante che è ancora visibile nel lato del palazzo è il ritratto di Maria Spinola Pallavicino che era la nuora di Teresa Corsi e che appunto venne realizzato nel 1857 quindi un complesso di grande rilievo ecco invece qui vediamo il rilievo realizzato effettivamente per il monumento a Cristoforo Colombo che venne presentato venne portato a compimento alla fine del 1850 e poi presentato a Genova all'inizio ai primi del 1851 e si tratta in questo caso ecco vediamo il Colombo in catene un un brano che è stato fin dal suo apparire ampiamente elogiato dal sia da Stefano Rossi il dottoprelato Stefano Rossi che lo accompagnò pubblicò a Roma già nello stesso 1851 uno specifico contributo del discacciamento di Cristoforo Colombo Genovese dalla Spagnola scolpito da Salvatore Revelli da Taggia agli elogi di Alizzeri Alizzeri in particolare mette in evidenza l'efficacia della rappresentazione l'impaginazione teatrale della scena che in cui Revelli come del resto anche gli altri scrittori coinvolti nell'impresa perlomeno nella realizzazione dei rilievi cerca appunto di animare riproducendo rivestendo i suoi personaggi con adeguati abbigliamenti in modo da poter suggerire l'idea del tempo in cui si svolse appunto la vicenda anche se naturalmente con un rigore non ancora così filologico che anzi con esiti assai pittoreschi soprattutto per quanto riguarda certi particolari nella figura degli indigeni e in questo rilievo Revelli rappresentò se stesso nella figura del marenaio in primo piano e il suo mecenate Tommaso Littardi nel personaggio appunto che si appoggia alla nave e osserva la figura di Colombo una precisazione che ho dimenticato di fare quando nel 1848 il conte Tommaso Littardi non poté più dovete interrompere la somministrazione del sussidio mensile all'artista fu Teresa Corsi che subentrò in questo ruolo affiancata da Nicolò Sauli che era genero di Tommaso Littardi quindi furono importanti committenti poi mostriamo altre opere realizzate per altre opere significative il monumento a Maria uno quando si recò a Torino a presentare rilievo con la deposizione e in quell'occasione incominciò a modellare il gusto della sovrana e poi completando poi avrebbe completato poi a Roma la stato ufficiale anche in questo caso in tempi lunghi perché appunto soltanto addirittura dopo la morte della regina che avvenne nel 1855 Revelli realizzò l'opera che comunque fu poi perché durante la realizzazione si incontrarono diverse difficoltà rappresentate sia dai cambiamenti iconografici richiesti dalla Casa Reale sia dalla difficoltà anche a reperire un armo adeguato e quindi soltanto appunto più tardi venne consegnato quando alla morte della regina Revelli realizzò trasse dal diciamo dalla sua statua un busto che offrì poi al sovrano sovrano rimasto vedovo e che è questo busto che si conserva ancora nel castello reale di Racconigi mentre il monumento a Maria dell'Aide in un primo momento fu collocato nella cappella della Sindone e poi trasferito alla Basilica di Superga numerosi furono anche le opere prodotte per la sua terra natale per i centri della riviera Ligure di Ponente e in particolare per Taggia ricordo però questa perché è la miracolosa la Madonna del Sacro Cuore è un'opera che venne modellata è un'opera modellata da da Revelli e ancora nel dunque anche questa nei primi mesi del dunque che venne inviata a Revelli alla fine a Taggia alla fine degli anni 50 modellata da Revelli con grande diciamo senso religioso che in effetti fu una delle caratteristiche proprie della sua figura e anzi mentre modellava la statua che doveva essere in origine una santa filomena sembra che il soggetto così racconta l'artista si sia trasformato sul lettore sui mani diventando la madonna del sacro cuore e quindi l'artista volle donarla alla chiesa parrocchiale di Taggia dove vi era la cappella del corpus domini e una associazione proprio dedicata alla devozione del sacro cuore ma la diciamo la notorietà di questa scultura travalica i limiti dei margini professionali di Revelli perché nel marzo del 1855 la piccola statua si sarebbe rivelata miracolosa agli occhi dei fedeli convenuti per le funzioni dell'ottavare in onore dell'immacolata mosse gli occhi e quindi venne ritenuta miracolosa come tale poi fu incoronato il pontefice Pio IX ne autorizzò l'incoronazione ed è ancora oggi un'immagine assolutamente cara alla devozione popolare è una delle opere più celebri di Revelli nel ponente Ligure poi ecco altre importanti commissioni genovesi la statua dell'innocenza oppressa che venne realizzata tra il 1851 e il 1853 per un altro committente d'eccezione Raffaele De Ferrari Duca di Galliera Duca di Galliera il marito di Maria Brignole Sale sono personaggi molto importanti nella storia dell'ottocento genovese furono grandi benefattori anche per la città ricordo soltanto l'ingente donazione da parte di Raffaele De Ferrari a favore dell'ingrandimento del porto di Genova ricordo la donazione da parte di Maria Brignole Sale delle due dimore della sua famiglia Palazzo Rosso e Palazzo Bianco Palazzo Bianco fra l'altro proprio con l'intento di destinarlo a sede di un museo della quale la città era ancora sprovvista e appunto che sono Palazzo Rosso e Palazzo Bianco che sono ora le sedi principali del complesso dei musei di Strada Nuova dove si conserva tra l'altro la Maddalena Penitente che apparteneva alle collezioni di Raffaele De Ferrari e della moglie era collocato nel palazzo parigino dei duchi di Galliera a Parigi e si risedettero prevalentemente e l'innocenza oppressa anche l'innocenza oppressa si trovava a Palazzo Bianco ma è andata distrutta durante causa dai bombardamenti del secondo conflitto mondiale nel 1942 qui ho messo come riferimenti quelli che sono stati sicuramente dei riferimenti per la creazione di questa figura femminile la psiche svenuta di Pietro Tenerani e la celebre fiducia in Dio di Bartolini ecco questa invece è un'altra opera portata a compimento nel 1853 ed è anche l'unica opera di Revelli conservata nel cimitero di Staglieno realizzata per la tomba di Adele Ravina moglie del Marchese Lomellini e una commissione gradita a Revelli che infatti afferma per verità avrei al suo corrispondente Marchese Spinola avrei un desiderio grande di fare un qualche lavoro per il Campo Santo di Genova e sarebbe questa una bellissima occasione per maggiormente farmi conoscere molto romana molto intonata in modi di Tenerani ecco il monumento a Cristoforo Colombo per Lima all'inizio degli anni 50 comunque giunse a Revelli un importante impegno la la cui esecuzione poi lo occupò per molti anni almeno per diciamo per quasi cinque anni e fu l'esecuzione di un monumento a Cristoforo Colombo da collocarsi in una piazza di Lima commissionato ecco dal governo del Perù nel settembre del 1853 come riferiva la stampa romana Revelli esponeva nel suo studio già esponeva nel suo studio il gruppo modellato in Creta rappresentante il ligore argonauta così si esprime il compilatore dell'articolo che poi è sempre Giovanni Battista Gallo e la scoperta dell'America da collocarsi in una piazza di Lima eseguito su commissione del governo del Perù per mezzo di sua eccellenza Don Bartolomeo Herrera ministro plenipotenziario presso la Santa Sede e col consiglio dell'illustrissimo signor Cavalier Camillo Domeniconi console del suddetto governo residente in Roma ora diciamo che da questo già da questa da quest'articolo si possono ricavare informazioni interessanti che poi trovano conferma in un altro materiale documentario e comunque nelle ricerche condotte da molti studiosi la commissione del monumento a Cristoforo Colombo si colloca comunque nel contesto di una più ampia importante commissione una più vasta commissione di opere monumentali da parte del governo peruviano che allora era preseduto dal generale Eceniche attraverso una figura di grande rilievo della scena politica peruviana Monsignor Bartolomé Herrera che giunto a Roma nel 1852 a capo della prima missione diplomatica del Perù presso la Santa Sede e il complesso delle opere monumentali commissionate in questa occasione oltre al monumento a Colombo comprendeva in primo luogo la statua equestra di Simon Bolivar che venne poi affidata ad Adamo Taddolini e le dodici statue dei mesi dell'Alameda de los Descalzos tutte anche queste affidate a scultori se non romani comunque attivi nel contesto locale molti legati agli evi dello stesso Tenerani come rebelli che costituiscono uno dei più significativi capitoli del rinnovamento urbano della capitale del giovane stato indipendente del Perù un capitolo la cui rilevanza appunto è stata evidenziata sia dagli studiosi italiani nell'ambito degli studi sul ruolo di Roma nell'Ottocento e qui ricordo soprattutto il catalogo dell'importante mostra Maestà di Roma lessita alle scuderie del Quirinale nel 2003 e in particolare il contributo di Giovanna Capitelli e Stefano Grandesso Roma fuori Roma è questo anche il titolo di un successivo volume pubblicato nel 2012 sempre a cura di Capitelli Grandesso di Carla Mazzarelli con saggio di approfondimento dei diversi aspetti di questa ramificata vicenda e per le commissioni peruviane ricordo un particolare saggio di Federica Giacomini che si è soprattutto appuntata sulla figura di Camillo Domeniconi consul e intermediario per la commissione delle opere d'arte apporti di rilievo su questo complesso si devono comunque anche agli studiosi peruviani ricordo in particolare Italia Mailuf e di Nanda Leonardini anche con specifica attenzione al monumento di Colombo oggetto peraltro di un recente ampio saggio molto interessante di Daniel Elvi Fian Lopez volto a evidenziare la corrispondenza tra il programma iconografico del monumento con attenzione anche ai rilievi del basamento e i valori promossi dal programma politico governativo per favorire il progresso della nazione Camillo Domeniconi qui citato è un personaggio che è stato appunto in tempi recenti ben indagato è un artista un pittore è stato allievo a Roma di Jean-Baptiste Vicard che lo lasciò poi addirittura erede testamentario gli lasciò una parte del suo studio e anche un vitalizio nel 1836 però lo troviamo in Cile e quattro anni più tardi in Peru e poi rientro a Roma dove divenne da primo console del Cile presso la Santa Sede e poi nel 1953 anche del Peru e debbe probabilmente appunto conosceva bene sia l'ambiente della curia papale sia l'ambiente degli artisti e quindi dovette avere un ruolo di punta anche nella scelta degli artisti in particolare fu probabilmente molto fu probabilmente influente anche nella scelta di Revelli come autorentista cui affidare il monumento a Colombo perché sappiamo che dovette essere una commissione diretta quella a Revelli forse diciamo incoraggiata da Tenerani forse agirono anche altri elementi Caterina Olcese in precedenza ricordava anche a una possibile un possibile intervento in questo senso di José Canevaro qui è una diciamo un aspetto che forse potrà essere ulteriormente chiarito certamente per il monumento invece a Simon Bolivar fu indetto un pubblico concorso la selezione poi le opere furono poi sottoposte al giudizio rappresentate da più di 60 artisti si pare furono poi sottoposte al giudizio dell'Accademia di San Luca e il lavoro venne affidato ad Adamo Taddolini accademico di San Luca a sua volta artista di punta ecco a Roma in quegli anni e l'esecuzione del monumento a Colombo si protrasse per diversi anni anche perché la situazione politica peruviana lo scenario insomma peruviano cambiò in quegli anni venne deposto un presidente e Cenin che subentrò Castiglia quindi e di tutto questo di questi rivolgimenti si ha notizia anche nel carteggio dell'artista il quale per esempio nel luglio del 55 afferma di essere stato costretto a sospendere il lavoro per mancanza di denari le guerre o per meglio dire le rivoluzioni del Perù hanno ritardato e ritardano tuttora i fondi motivo per cui ho creduto ben fatto di soprassedere nel febbraio del 56 ribadisce il gruppo di Colombo si lavora ma lentamente a motivo che non ho finora potuto ritirare il resto della somma convenuta e ciò mi inquieta assai tuttavia appunto la traduzione in marmo dell'opera nonostante i rallentamenti subiti fu completata nel 1857 il monumento venne poi trasferito a Lima sul brigantino sardo il Campidoglio ecco qui alcuni particolari del monumento che diciamo rendono fanno comprendere anche bene ecco la capacità di quest'artista che ha un linguaggio nonostante la lezione classicista mostra un plasticismo di ampio respiro e poi la volontà anche in questo caso diciamo l'esigenza storicista che anche in questo caso però si manifesta con ampia libertà e ecco qui ho riprodotto un particolare di una fotografia di archivio peraltro ben nota agli studiosi di Lima che mostra la prima collocazione del monumento nella Alameda dell'Ace mentre oggi poi è stato successivamente trasferito oggi al Paseo Colombo una precisazione che volevo fare questa è una foto scocentesca peruviana ricorda che attribuisce a Giuseppe Palombini l'esecuzione dei rilievi del basamento è una notizia interessante perché Giuseppe Palombini poi sarà coinvolto anche nell'esecuzione di alcuni particolari ornamentali anzi direi è contemporaneamente coinvolto nell'esecuzione di particolari monumentali ora lo vedremo nella colonna dell'Immacolata Concezione che è una delle grandi imprese romane a cui partecipa Revelli farò ora scorrere con più velocemente ecco queste immagini le grandi commissioni pontificio degli anni 50 le grandi commissioni promosse da Pio IX particolare la colonna dell'Immacolata Concezione che fu eretta in piazza di Spagna sul progetto dell'architetto Luigi Poletti e almeno tre fra gli scultori coinvolti nell'impresa erano allievi di Tenerani e quindi Giuseppe Revelli Giovanni Salvatore Revelli poi Giuseppe Obici il romano Ignazio Giacometti mentre la quarta statua quella che vediamo di Mosè venne affidata ancora a Tadolini e dicevo Sì scusa ho l'ingrato compito di dirti di stringere ok faccio vedere solo le immagini siamo fuori tempo già di un quarto d'ora benissimo quindi abbiamo la bellissima statua di Isaia ecco questa è la statua di Isaia prodotta da Revelli con alcuni particolari che ricordano molto anche il vulcano del maestro Tenerani e poi altri incarichi importanti gli ultimi che diciamo stiamo all'interno della Basilica di San Paolo fuori le mura e a Revelli venne affidato uno dei due angeli reggistemma questo che vediamo sulla destra con i capelli più corti vestito all'antica diciamo quasi una vittoria alata mentre l'altro venne Meloziano affidato a Giacometti e poi soprattutto la grande statua di San Paolo che viene collocata diciamo alla fine della navata centrale la la statua di San Paolo venne affidata a Revelli quella di San Pietro sull'altro lato ancora a Giacometti sappiamo che Revelli questa è l'ultima opera a cui Revelli lavora lavora modella la scultura all'interno della stessa Basilica ma forse anche per il freddo diciamo di questo ambiente in cui l'artista così a lungo lavora con totale dedizione comunque portà a compimento il gesto ma il 14 giugno del 1859 morì probabilmente a causa della tisi e il modello venne poi tradotto in marmo sotto la guida di Tenerani da Giacchino Doppieri che era uno dei suoi allievi e agli allievi di Revelli venne affidata anche la traduzione in marmo di un'altra opera che si conserva a Genova la statua di Giuseppe Pozzo uno dei benefattori dell'albergo dei poveri dove possiamo notare nel volto la come dire una connotazione più realistica nel volto e anche nell'abbigliamento moderno del personaggio anche se il mantello appare panneggiato come il manto di una scultura antica e io qui mi fermo grazie grazie al professoressa Ghio per questo profilo abbastanza approfondito di Salvatore Revelli anche se ovviamente ci saranno anche molte altre opere che forse rientreranno nello spettro della ricerca però grazie per questa conferenza molto attenta su Revelli interessanti le opere molto e a questo punto apriamo la tavola rotonda quindi quindi non ci sono domande nella chat preguntasi respuestas e io mi tengo per ultima perché preferirei vedere chi del pubblico siamo rimasti in 28 e chi del pubblico desidera desidera porre qualche domanda alle nostre redatrici Caterina Olcese ci ha parlato più delle committenze più delle famiglie quindi più dell'origine di queste opere e anche delle opere e a Lillighio in particolare su Salvatore Revelli via alle domande scatenate vediamo se qualcuno in italiano in spagnolo è lo stesso nell'idioma che preferite oppure anche la dottoressa Sborgi se desidera intervenire di nuovo per dire qualcosa non so ringrazio i commenti del pubblico qui non trovo più il cursore del mouse non so e il pubblico che sta congratulandosi per per il livello la qualità della relazione e io qui ho perso un po' il controllo del mouse ecco Anna Viola vuole dire qualcosa è il microfono microfono ecco ringrazio per questi interventi così si approfonditi e simulanti come sempre e niente vi devo salutare perché purtroppo ho un'altra riunione al Fuso Radio di Quark ma vi ringrazio ancora tantissimo per questa per questa occasione di commemorazione ho letto anche tutti i messaggi nella chat i ricordi e mi fa sempre molto piacere è stato un bel modo per commemorare l'anniversità sicuramente grazie mille grazie 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 Anna un abbraccio grazie grazie eccoci ringraziamo appunto Anna Sborgi che ci ha accompagnato sinora la figlia dell'indimenticabile professor Sborgi a quale è dedicato questo seminario lo ricordiamo professore di storia dell'arte contemporanea l'Università di Genova dal 79 all'anno in cui ci ha lasciato troppo presto esattamente dieci anni fa il 31 ottobre del 2013 attivo sino si può dire all'ultimo agli ultimi giorni e quindi ancora ci sono varie espressioni di congratulazione per la conferenza Claudia Andreotta dice ciao Claudia sarebbe molto bello se diventasse un appuntamento annuale ricordo di Sborgi molto molto possibile direi sicuramente noi siamo disponibili anche perché noi come abbiamo detto proseguiamo no? cioè questo è solo l'inizio o meglio una fase di dello svolgimento di una ricerca che esiterà in una residenza delle professoresse colcese di o qui a Lima proprio per verifica ecco dei dati già raccolti studiando a Genova verifica sul campo e studio sul campo che durerà circa un mesetto o una ventina di giorni insomma vedremo nel mese presumibilmente nel mese di aprile si dovrebbe tenere la residenza delle due studiose qui a Lima e quindi poi si dovrebbe mettere insieme tutto il materiale per creare il libro che naturalmente anch'esso sarà intitolato al professor Sborgi e quindi abbiamo la domanda di un assistente io però qua purtroppo non riesco a Micaela mi mouse sta fuori di uso potrebbe Micaela Micaela direttore si si potrebbe gestionare un momento le pregunte si sta una mano levantata si ora tenemos una pregunta di Alessandro Jacove che dice abbiamo ma sobre los objetos della colezione Puccio abbiamo ancora oggeti della colezione Puccio si questa è la pregunta se abbiamo molte opere della colezione Puccio qual è la domanda è abbiamo più informazioni su oggetti della colezione Puccio ma sobre los objetos della colezione Puccio ho capito però se ci sono più lavori nella colezione Puccio finalmente il mio mouse funziona infatti allora si dice se sulla collezione Puccio allora della collezione Puccio intendiamo i dipinti di Barabino basta consultare il catalogo che qualche anno fa Giovanna Rotondi Terminiello aveva curato delle opere d'arte dei dipinti della collezione della banca Carigie nella cassa di risparmio di Genova e le opere di Barabino appartenute ai Puccio e passate alla Carigie sono tutte state schedate avevo trovato questa pista in effetti era quasi stato confermato erano appunto sono in parte pervenute alle collezioni della Carigie poi presso il Doxai il centro di documentazione per la storia l'arte e le immagini di Genova la biblioteca di Palazzo Rosso anzi la fototeca c'è un album fotografico che raduna riproduzioni fotografiche di opere di Barabino ed è dedicato a Elvira Puccio mi pare a una delle donne della famiglia e quindi anche questa è una traccia per risalire a questo rapporto di amicizia poi ci sono sicuramente cose che sono andate disperse che non sappiamo dove siano finite e poi c'è invece per l'altro ramo Puccio cioè Carlo Sebastiano il chiavarese tutti i Puccio provenivano da Chiavari ma insomma io adesso ho citato il ramo che più si era internazionalizzato ed era su Genova c'è da fare questo lavoro di ricerca perché è probabile che una parte dei reparti precolombiani che Sebastiano Puccio si era portato dal Perù che esponeva in questa sorta di museino domestico diciamo siano passati al comune di Genova ma il lavoro è ancora tutto da fare cioè dobbiamo fare una verifica seria su questo aspetto non lo so non so ancora rispondere però appunto probabilmente sono due rami diversi cioè è un cognome che probabilmente era generato frequenti monimi eccetera e quindi Carlo Sebastiano non credo sia parente degli altri Puccio più Genove diventati Genove non sentiamo più niente ma lei però direttrice sul microfono ci sentiamo argomento Puccio non credo può chiedere la stessa attraverso adesso stiamo dicendo se ne è la chat giusto momento Puccio di Rosenda questa di Rosenda di Rosenda c'è una Rosenda e Rosendita sono due sì sì certo c'è Rosenda aspettate che adesso Rosenda Puccio sì era la moglie di Ernesto giusto giusto perché poi c'è una Rosendita eh sì Rosendita la generazione dopo la villa di Già de Mari di Albissola si chiama Villa Rosenda in onore della moglie Rosenda Latour che aveva sposato Ernesto Puccio che si era fermato in Perù è uno dei due rami diciamo presenti a Genova poi nel cimitero genovese quindi e poi diciamo c'è una Rosendita che è una in realtà invece una discendente che è quello che è l'ultima esponente della famiglia femmina che sposa Orso Serra con cui appunto si estingue la famiglia la famiglia Serra una famiglia aristocratica che è importantissima perché a Genova esiste una via Serra la strada Serra che viene aperta a spese della famiglia che è una strada importantissima ancora oggi per la viabilità cittadina negli anni 40 dell'800 erano ancora ricchissimi possedevano diverse dimore importantissime in centro città e fuori città compreso un palazzo in strada nuova all'epoca la famiglia Serra appunto nell'800 è ancora molto molto importante e questo matrimonio appunto è significativo e ancora oggi diciamo esponenti della famiglia Serra sono sepolti in una delle due cappelle che vi ho fatto vedere che era nata come cappella Puccio e anche diciamo la tenuta delle bettolle in Toscana è tuttora proprietà della famiglia Serra quindi diciamo è rimasto qualcosa di importante nella in questa famiglia aristocratica come memoria della presenza Puccio compreso appunto questo nome Rosendita poi ci sono altri nomi che ricorrono nella famiglia e che denunciano diciamo questa fase spagnola spagnola sudamericana insomma di vita sudamericana dei Puccio sì giusto è vero che Ernesto Puccio aveva avuto un figlio nello stesso nome certo è vero è la prima delle cappelle che vi ho fatto vedere quella realizzata su progetto di Gino Coppedè diciamo di gusto secessionista è proprio dedicata da Ernesto al figlio Ernesto in primi del Novecento giusto che amore sì che amore giovane giovane naturalmente poi ci sono cose dati che vanno ancora un po' approfonditi però qualcosa dei Puccio già è stato scritto e pubblicato è un po' difficile appunto addentrarsi in queste famiglie ramificate con tantissime omonimie ma si può fare speriamo sì i Puccio sono complicati ma parla non sentiamo più niente non sentiamo no che è che sta a fare lei è disabilitato come si fa bisogna dirgliela di un po' di un po' che è disabilitato non si senti Silvia noi non sentiamo più nulla siamo disabilitate ah ok io adesso sì e voi anche ok bene ora ci siamo sì no sono io che il microfono sempre non lo so non capisco mai quando è acceso spento allora vediamo Vanessa Mendoza ringrazia per la risposta Miguel il professor Miguel Moya ringrazia per la presentazione e ci sono altre domande specificatamente sui contenuti che hanno presentato le due relatrici qualcuno da Genova sono tutti a pranzo voi sa sono andati tutti a pranzo se no passo io alla mia diciamo commento e allora varie cose specialmente per la diciamo mi limito alla conferenza di Caterina che mi ha suscitato insomma due idee la prima è quella che riguarda proprio Giuseppe Canevaro perché Giuseppe Canevaro era un diplomatico è stato un consul qua in Perù praticamente credo che fosse avesse disimpegnato questo ruolo per tutta la vita ecco da quando era qua e per cui è presente posso dirlo perché io l'ho elaborato l'ho visto nell'archivio storico diplomatico del ministero degli esteri italiano il fascicolo personale di Giuseppe Canevaro oltre ovviamente a essere presente per quanto riguarda il Perù il fondo della delegazione italiana nel Perù che già le colleghe dell'archivio di Stato gentilmente ci stanno stanno un pochino verificando la presenza di Antonio Raimondi perché faremo una mostra approfitto per citare questa iniziativa importante che avremo l'anno prossimo oltre al progetto con le professoresse Ghio e Olcese e tanti altri faremo una mostra su Antonio Raimondi che inaugureremo il giorno della sua nascita mi sembra il 19 settembre e stiamo già realizzando questa la raccolta del materiale ampiamente già avanzato proprio attraverso le ricerche delle colleghe archiviste in archivio storico e diplomatico le quali quindi potrebbero anche lavorare sui fondi personali dell'archivio matricola di Giuseppe Canevaro relativi a Giuseppe Canevaro io l'ho visto è un fascicolo abbastanza oddio non so ecco corposo abbastanza corposo e inoltre credo che ci siano anche vari fondi dei consolati onorari oltre che quello della delegazione nell'archivio storico per cui insomma probabilmente potremmo estendere l'indagine anche in questo senso almeno per qui no? molto bene molto bene sì 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 sono sicura e tra l'altro c'è anche stata una recente non ho potuto vabbè approfondire tanto però il duca Emanuele Canevaro che è morto di recente e che viveva ancora a Giuseppe fino a poco tempo fa sì non lo conoscevamo è consegnato all'archivio di Stato di Firenze una serie di documenti che riguardano la famiglia e anche comprese le genealogie compresi e anche i documenti che riguardano gli affari col Perù e poi va bene i suoi discendenti diciamo che è un fondo d'archivio che dobbiamo ancora cominciare a capire come far esplorare se faremo o se è troppo consistenza e non lo so però diciamo è importante anche questo aspetto è un'altra cosa che avevamo credo che abbiate già trattato quando vi siete incontrati a Chiavari con Barnaba Bernabò e altri insomma studiosi che si occupano di Chiavari naturalmente appunto poi c'è tutto quell'aspetto non solo genovese ma degli archivi della Riviera Ligure forse da contemplare come possibili insomma oggetti delle nostre ricerche e quindi forse potremo anche prevedere il coinvolgimento di altri studiosi perché ci sarebbe d'antico Barbara per gli archivi di quella zona perché anche la Barbara per la Bò eh sì ma lei era stata ancora con la vista qua tra il pubblico però io noi l'avevamo invitata alla conferenza è importantissimo per tutti i paesi rapporti con tutti i paesi del Sud America che sono stati sono ancora presentissimi diciamo delle memorie di tutto questo però appunto concentrati sul Perù potrebbe essere un'idea importante per la stessa Chiavari sì ma Chiavari in particolare sicuramente Genova con il gemellaggio appunto di cui ha parlato il dottor Tonini è un po' il centro il grande centro di arrivo di partenza tramite il porto dove tutti comunque passano però c'è da sottolineare che proprio in Perù è la comunità chiavarese la più numerosa ossia i Liguri del Perù tutti o quasi la maggior parte la stragrande maggioranza degli italiani in Perù è di origine Ligure e all'interno dei Liguri la stragrande maggioranza è di origine chiavarese e dell'entroterra chiavarese fa Valle di Malvaro fa Fontana Buona esatto proprio la geografia è molto precisa e le ragioni di questa geografia insomma sono in parte note ma forse in parte ancora tutte da un pochino ancora lumeggiare meglio sono da chiarire meglio alcuni aspetti specifici magari realmente collegati ad alcune specifiche famiglie alcune specifiche persone alcuni specifici incarichi o magari chissà alcune specifiche committenze artistiche quindi allora scusate perché qui appunto mi arrivano messaggi e perfetto ho io scusate ma ho il controllo di questo mouse a solo a tratti e l'altra cosa che volevo invece anche menzionare è una cosa personale mi sia consentito proprio mi sembra veramente di chiudere un cerchio in quanto è stato menzionato anche Castiglioncello che mi permetto di menzionare è proprio il mio paese d'origine nel senso io sono nata a Livorno i miei genitori sono di Rosignano Solvè che è un grande comune a sud di Livorno che include anche la frazione meravigliosa di Castiglioncello e poi sono cresciuta a Genova appunto con tutti gli amici alcuni dei quali sono anche in linea abbiamo condiviso anche appunto momenti all'università con il professor Sborgi e con con vari delle persone che vedo in linea quindi per me personalmente è un'emozione particolare vedere che si chiude proprio questo cerchio tra l'altro il discorso il discorso di patrone del del commercio del guano che che lui portava avanti mi era stato proposto circa vent'anni fa di approfondirlo io proprio tramite un discorso fatto specificatamente su 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 Castiglioncello Rosignano che anche ha un buon archivio storico Rosignano Maritti o il comune e per cui beh un'occasione proprio bella questa di oggi dove tutti ci ritroviamo con qualcosa anche di personale bene e quindi se non ci sono altre domande io visto che sono già le dodici e mezza di Lima quindi che ora è? Le sei e mezza no? Le sei e mezza italiane io chiuderei l'incontro ancora ringrazio il dottor Tonini che ci ha accompagnato finora e ringrazio Anna Sborgi veramente tanto ringrazio la figlia del professor Sborgi per aver accettato il nostro invito per ricordare il professore di tutti come ho scritto anche in un commento perché davvero è così e quindi soprattutto ringrazio le nostre due relatrici e le aspettiamo a Lima grazie Caterina grazie Willi grazie presto arrivederci grazie a voi arrivederci arrivederci a tutti grazie al pubblico arrivederci